ma invece non fa mi dice l'elemento curseforge a cui il collegamento fa riferimento è stato modificato o spostato il collegamento non funzionerà più correttamente eliminare il collegamento? e non ho fatto un cazzo che è successo? ma che cazzo non so non lo posso saperlo a me funziona normale come se fosse normale però Valerio se mi devi aggra il computer per non farmi giocare ma magari sapessi aggra il computer avrai rubato tutti i soldi di tutto il mondo così non si fa apri me lo porco ha fatto lui il reato di certo non rubo i tuoi dati che non hai in euro e ti putti di panna ma nemmeno quelli di buff anche se è collegato alle carte che sono io che dopo gli devo dare i soldi indietro quindi non lo posso più aprire curseforge mi apre la cartella posso fare qualcosa? minecraft install si apre minecraft da qua vediamo no mi apre il launcher di minecraft ok vabbè vabbè devo riscarivare il curseforge è bella questa applicazione complimenti complimenti ma sento scemo ecco quell'app curseforge windows install ma è pure col per a me ma fammi ascoltare zucchero un altro brush un altro brush mamma mia ma che scragate che ho fatto era grande miracoli tequila e bum bum ah no eccolo seve minecraft aprilo oh no eh questa è la quarantesima sessione si siamo arrivati a 40 sessioni e ho gli stessi spettatori di quattro mesi fa pensa che bello no dai sono aumentati eh un pochino sono aumentati un pochino oddio wow di due no no però ma allora leo ti ha si è followato cibo si è followato connessione server non riuscito accesso non riuscito sessione non valida in che senso io sto dentro raga io sono lost ma che cazzo dice riavviare ma che cazzo dice che non è che hanno aggiornato qualcosa non lo so io non ho aggiornato niente fra ma oggi è la giornata delle stranezze a panze sparisce questo forte a me dice che la sessione non è valida non è non c'entra niente non ho cambiato proprio niente ah spero non è che vabbè basta che riavviva si si ho riavviato no stavo vedendo se avevo installato una mod magari per provarla mi sono dimenticato di toglierla può capitare eh puoi dire io l'ho installato e me l'ho disattivato no non c'entra le mod ok pensavo fosse per qualche mod ma in realtà no no vabbè ti ha caricato il cusforge la c'è te lo carica però non te lo fa avviare poi porca troia 1800 monete nel mio zaino possiamo fare il respiro ah giusto hai ragione hai ragione e devo fare la contifra ok e noi entrano nel server no iniziamo male qui no no e iniziamo buonissimo dai abbiamo due donne nel server tre no intendo i personaggi che si erano caricati un bel guerriero un bel guerriero è vero che è vero che è vero che non la senti non la senti no no Ma mi senti? Mi senti? Sì Non so perché non andava Comunque tra poco dovrebbe arrivare un mio amico Cioè il mio cugino dovrebbe venire Il mio cugino? Quante persone della tua famiglia porti qui? Non è che è tutta una scusa per attaccarci Di nascosto Secondo te è meglio No a me Mi hanno fatto sempre questo indaminello È meglio Il mio cugino Il mio cugino Il mio cugino in the pack Il mio cugino in the pack È buon gusto Oh no Comunque te l'ho detto Secondo me dobbiamo licenziare Ben Perché non fa bene il suo lavoro Cioè Ben è veramente peggior per i ziotto Un cugino in the pack Oh Ben Oh Ben Oh Ben Non è perché ti abbiamo visto venire laggiù Perché lanci le cose Comunque ragazzi Simon È diventato capitano dell'aeronautica Ragazzi c'è un nuovo ruolo Eh sì Ragazzi Il fratello mi ha dato questo aereo No eh vabbè E devi guidarlo lui Ok Ma dove è che c'è uscito sta roba Dammela eh Non dammelo Doge Dona di Allora Io vado a pagare le tasse Comunque sei licenziato dal tuo lavoro Andiamo Ah guarda qua che avete combinato per sparare Eglia Pulito Mettemi i soldi nella cassa Sono cinquanta scusa Bravo bravo Mi piace come ragioni Perché vado di Il mio fratello Pagato I soldi pagati Porco di Scordo La paghi cinquanta A me è chiuso Vado a pagare Barone Barone Allora Signor Hanno pagate le tasse Queste qua mi ricordo Tasse da pagare Guarda il re No vabbè Cazzo schioffo Carlo Il messia Panzer Per ora Perfetto Allora Fammi prendere le chiavi Che posso sti soldi Prendo lo stipendio mio Prendo lo stipendio di Nati Et voilà E paghiamo pure le tasse Ma che bello Che bello Che bello essere lì Che potente Avrei potere De gestire tutti i soldi Allora 60 27 30 Il mio stipendio 64 Lo stipendio di Nati Ora Devo pagare le tasse di Nati Nati a 25 e 15 35 e 40 55 e 60 Stai fermo Gesù Cristo 60 Nati Poi devo pagare Io Da casa 10 Allora No Due negozi 50 E la casa Ok Ho pagato pure le tasse Chi stai sui soldi Allora Ben Aspetta un attimo Ti do lo stipendio pure Sono un attimo Facendo me Nati Allora Dove è Carlo? Carlo posti Allora Vieni Signor Tu devi avere 60 Perché 10 Paghi la casa Che hai qua Da noi Tieni E te ci puoi da casa Tutto cazzo Tu è chi stos Che ne chiamo un culo Oh sos Ah Vieni a te Sos Oh Ti do Sos Ti do 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 35 40 55 65 70 C'è questa zona No E la casa 80 Siamo stessa Meno cavalli 60 Bravo Porta rispetto E paga sempre le tasse Bello Mi piacciono i player Che fanno tutto subito Così Non mi rompo Nel cazzo Allora Panzer Ha pagato pure Perfetto Stiamo a posto Adio che è sorta Devo posare i miei soldi Ora Prima di andare a posare i miei soldi Prendiamo queste chiavi E andiamo a raccogliere la falegna Ma come vai nennetta Cazzo Che cazzo Che cazzo Sei giovane Per queste cose Vada che dobbiamo prepararci Per la guerra Oggi Non mi sembra C'è qua Aiutante Ma E basta Putta la mannenza Tutti i coglioni Allora No L'ho preso i gialli Prima di andare a doppia Volei dare se qualcuno Avesse comprato Ok Comunque io ora Noi E' parepa Grazie per le sue 16 casse Hai visto Tutta alta qualità Mi serve Non fare le casse Ma hai un po' che vede Quante cose Dove Gli appoglietti delle casse Ah che sta dal negozio Fai il negozio No Lui dice Volevo fare l'app Gretta della sua E come è buono Vabbè grazie Fammi un bel Gretta Guardi siamo ricchi Siamo ricchi Come musta Ancora Gretta 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 Eccomi Tormel Guarda ma che prezzi Io rispondirei il negozio Così almeno dici che questo negozio è utile Abbiamo preso 10 candele Dai andiamo ad oggi i video di una cosa Vai vai Facciamo questa opera di beneficenza Facciamo una stacca a testa Vai va bene Eh allora fammi entrare Porco dio Mi hai fatto cagare in mano Mi sono trovato uno nella casa Gesù Cristo santo Adesso non l'hai capito Senta l'ho visto Sembra un fantasma Salve buonasera Però mi raccomando non ci devi vedere Andiamo 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 Ma come Ma stiamo avanti Aspetta 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 ma scrivo Ma digli che lo vuoi Al Al baronato Così va là giù Andiamo Allora iniziano dal baronato Eh sì dobbiamo parlare Quella cosa segreta Capito Siamo Stiamo finendo di parlare Noi arriviamo su Quella roba segreta Che devono sapere i cittadini Non mi fare dire altro Va bene Allora Panzer Eh dobbiamo un attimo Organizzarci bene Eh Non so Lasci Ma comunque Eh capito Eh dobbiamo prepararci bene Comunque dobbiamo Essere di dire che dobbiamo fare Ti aspetta ancora Aspetta ancora No 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 Aspetta ancora Aspetta ancora Aspetta ancora Ancora Ti aspetta ancora Eh andiamo Dai che sei andato Ora guarda Ma è pure buio Non vedo No Allora Ok appassio Ma c'è ancora un sacco di roba Eh ha farmato È normato Eh Sì dai Facciamo dei regali Salve Cristian Abbiamo un regalo Per te Dall'antico Dio Vogliamo regalare una candela In memoria che oggi moriranno molti uomini In battaglia Ah che cazzo Cosa si succede qua? È dei regali Sono dei regali Sì prendete Questi sono regali Per commemorare i morti che cadranno oggi Oh Questo mi serve Scusate Il libro mi serve Ma è dei regali Questo? Gentilissimo Per le tasse A posto Grazie Andiamo da Carlo Che è stato lì Facciamo vita che abbiamo visto A chi abbiamo visto? È il giotto che comprava Sai Un elegante delle profumate No Io ho comprato Di Matteo Cazzo stai Cazzo stai Vieni qua Ti muovi a andare Vai doggio Diggielo È una cosa abbastanza triste Cosa? Diggi Diggi Vai Ah Diggi Diggi Faticamente Al tuo negozio Non so Perché Dani l'ha comprato Tutte le candele Che avevi Perché ha detto Che deve fare un funerale È morto qualcuno Non ho capito un bene Che cazzo Stavo dicendo Detto è pazzo Tanto Nessuno si ha preso Nessuna candela Vieni Oh L'abbiamo visto Da vedere Ma se stavi Al barmato Come facevi a vedere Oh Buono Vabbè Siamo fatta morti Ah È culo Allora Allora Stavo bene Stavo preparando Un funerale Ha detto Anche il mio L'ha preso Eh forse È commemorare Che cazzo Non lo so Io da l'avete A noi C'ho detto Dopo Non lo so Che stavo facendo Beh Un funerale Di chi? Boh Non lo sta Ah Non lo sta Cos'è Vabbè Dai Mi hai detto No Eh Il funerale Di chi? Perché ne so Andiamo a vedere Andiamo a chiedere Scusa Chiedere Non è un peccato Insomma Ma sta a fabbro Perché sta a fabbro Ah sta a fabbro Ma chi cazzo L'ha Simon Ma alla fine Devi fare Il funerale Perché? Ma le candele Che hai preso Non servono Per commemorare I caduti In battaglia No Sì Guarda Ah ok Già stai Facendo Vabbè Facciamo una preghiera Allora Per i uomini Caduti in battaglia Nel nome Dell'antico Dio Ricordiamo Questi uomini Caduti In battaglia Che sono morti Che sono morti E caduti Per difendere Osiris Grazie Qua c'è Qua c'è Qua c'è Qua c'è la prima Qua c'è la prima Qua c'è la prima L'ha portata Comunque niente Abbiamo fatto la commemorazione Grazie Simon Per ricordarci Lo vuoi Ringraziare Per essere il tuo primo acquirento A un negozio Cioè Il tuo primo acquirento No non è vero Non è il primo acquirento Anche io L'ultima volta Di nuovo Per il mio negozio Ma che cazzo C'è una broca Ma io qua metterò Questo qua Per il mio cilindro Per il mio cilindro Baila come No Samir non c'è però Baila Baila morena Samir non c'è Però Samir guarda cosa ha fatto ragazzi Mi ha messo L'izziglia del capaparo fuori No no Qui Allora Il capaparo Lo mangio qui Lo passiamo a te Così Faccio la vita stufa Sì ma Vuole giro cartiere Ah Ah C'è un cartello Guarda me Carlo Infatti ho guadagnato 50 monete Ho soldati Praticamente Come ho capito Così mi ha detto Samir Infatti guarda Ho i soldi in mano Perché l'hanno comprato Questo cibo Praticamente Quando lo mangi Per 5 minuti Ti da cuori Continuamente Va bene Aspetta È molto forte Io li consiglio Prima di andare In vantaglia Sì con la ciotola No ce l'hai La ciotola È il piatto Già Ecco la ciotola Ma chi è Ma chi è Ah ok Oh chi cazzo Si è mandato il cliente Il cliente Ha mangiato Grazie Ci ha ripensato Ci ha ripensato Ah sta prendendo il riso Ah ecco Pure lui È un guerriero nato È un guerriero nato Ma a me serve canna da zucco Che tu non hai idea Non la tena più Ok che devo fa? Bego Bego Ok che dà? Che dà? Ma da un cazzo Cazzo Che cazzo Non è l'altro Qual è? Eh Il negozio di solo Che cazzo devo fare? Qual è il negozio? Lascia stare Eh Lascia E tanto Non entra No Non ha detto mai Una cosa del genere Ho detto appena Eh se lo prende poi Lo scammer Lo scammerino Poverino Ma tanto Manco compri la sua roba Cazzo Io mettere anche una candela Per quest'uomo Cosa? Per fare le candele Per sapere La corda La corda? Eh vai da Scogno Cosa? C'è un'altra C'è un'altra C'è un'altra Un bello scritto qua Il cacciatore Proprio bello grande E c'ha tutto Visto c'era a buon prezzo Scogna rispetto agli altri Sì Le corde qua Sì ma io ho finito la colpura da sparo Eh la colpura da sparo Ma le corde serve per fare candela Ah è parli italiani Non ti capisci Eh quando viene il tesoriere Ma oggi non si può Subito arriva Ah Carlo tieni ti faccio un regalo Ciao Ciao Che dovevo fare mi sono dimenticato Ah è giusto Com'è bel O-Marin Uh uh Com'è bel O-Marin Uh uh Ah ti ho un regalo per te Uh 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 Tieni Nati Tieni Nati Poi faccio vedere se qualcuno ha comprato Tasto sinistro Solo tasto sinistro Sì Non ho soldi Quindi nessuno ha comprato Eh oh Da poco abbiamo iniziato No ma io sono mancato Ah è vero Sei mancato Eh no è perché lagge Già ce l'abbiamo Eh che ci mancava altro Ma io mi ha l'acquina vostra Cosa? Uh mi hanno comprato i cosi Eh direi Quei cosi sono utili Uh direi io Che I soldi Eh come dai a me? Tieni guarda Eh dai Vado a posare io Una spark Uh uh E qui siamo la Marine Uh uh Ah arrivo Salgo Sopra 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 Oh Sbagliato 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 che è successo io siete troppo nervosi è successo qualcosa Che hanno combinato No perché sto qui ho sentito che ti ha fatto la denuncia E se muore non penso che sia stupido io no Lo faccio fuori lui No panzer no E te Hai denuncia san lupo Ma se voi ti sbatto in prigione però quella ti vedono No e dai che cazzo No la multa la do a panzer No non la do a questo Ma che multa che papà si E tu mannaggia mi sei Fai solo burde Eh la denuncia tua ragazzo Eh no la do a panzer Do che cazzo c'entra panzer Che signore Nadia se vieni a comune iniziamo che manchi tu Salve Marina Iodintac Si arriva da un momento giusto aspettiamo il ministro delle infrastrutture Salve è biondo Salve è biondino Hai un fascino da qui Fammi vedere le mani Metti il tappeto a posto Grazie Oh se stava robazia Ma vediamo vai vai Ma non ho sbagliato Ma non ho sbagliato Cazzo a posto Ma ha sbagliato Ma dove l'hai preso Ma vada Scusami Le cose Scusami Le pistole della cassa Io l'ho approfittato Ma ce l'ho io Ne fatti due Una è nella cassa Ma hai tocchi No è ok Direi tipo di eliminare tutte e due le gemelle Ok andiamo via Ah beh E sono quattro denunce Eh vabbè dai Scrivi nel libro Scrivi scrivi Ma quale denunce è questa? Quale? Quale denunce io so Che sta dando fastidio Stai dicendo Disturbo luogo pubblico Disturbo luogo pubblico La denuncia neanche te L'ha creata lui Ah sì Prima di Martino Devono pagare le tasse Che a me Poi a te non mi interessa Sì no capito Che cazzo c'entra Le tasse Salute Appena mangiate il riso Questo quale Oh sta prendendo anche Giliberto 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 Ah sentiti là Volveri veloce Ah sentiti là Fratti fa il culo Giliberto Ciao Link Giliberto Se arriva Giliberto E' la tua fine Infatti è vero Sedersi al posto Vieni qua e mezzo Vieni qua e mezzo Vieni vieni Link ma Comunque ho visto che hai avuto il premio Il tuo gioco Sei contento? Ah mi spiace Link Mi sa che la sua era finita Ma io sto per vomitare Ma che senso? Che senso? Troppe creppe ho mangiato Questa qua è la quarta creppe Ecco perché sei grossi Sì Sì Ah beh signor Giliberto Ehi sono la mia volta Trovare anche il posto libro Signor Giliberto Grazie grazie Hai visto? Il rispetto dei uomini E delle persone In questo villano Giliberto ma Ha cambiato look? Hai visto come è carino? Vabbè Ma parliamo un attimo di cose serie ragazzi Adesso il culo E metto accento Così mi sentite meglio probabilmente O mi sentivate bene prima? Buon anno a me Ah ok perfetto Allora salve Buonasera ragazzi Questa è la Centocinquantesima sessione Che ci incontriamo Che non è vero scherzo Allora ragazzi Sono due cose importanti Che dobbiamo parlare Ok La prima è che abbiamo sbloccato Una nuova tecnologia Molto particolare Che signor Christian Ha stato lui a svilupparla Ovvero Il primo veicolo volante E in questo caso È molto utile per noi Visto che siamo in guerra Potrebbe farci differenza Nella guerra Ok Era un po' instabile Quando ho visto la tecnologia Sì ma infatti Adesso abbiamo una persona Che è un vero pilota Vedi? Vedi qua a fianco a me Lui è Capitano dell'Arianatica Attualmente Quindi lui ha capacità Di guidare questi veicoli Quindi Sì Allora Ben Te lo dice lei Signor Sindaco Io darei fiducia Detto questo La seconda cosa Ehi basta Dai Basta Ora le maniere forti Un altro che parla C'è la mia cacciaterroni Che colpisce Ok Perfetto L'altro si è messo L'armatura Perché ha capito Allora stavo dicendo La seconda cosa ragazzi Dobbiamo prepararci Tra l'in circa 30 minuti 35 Facciamo Dobbiamo Ma che è sto zaino Ah io mi sento Solo che stiamo C'è sta musica Vabbè No vabbè Raga niente Stavo dicendo Vabbè A posto Comunque niente Ci prepariamo Tra 30 minuti Per partire Quindi Ammiraglio Prepara la sua armata Ben Prepara i suoi poliziotti E tu Vabbè Sei l'unico Che sa guidare Quindi Siamo a posto Detto questo ragazzi Era una semplicissima Piccola riunione Andate a chiamare Tutte le truppe Anche tu Vai preparare La signorina stella E prepariamoci ragazzi Eh Dove dobbiamo andare Preparatevi per la guerra E lo scoprirai poi Le armi migliori voi Simon Ho una spada di ferro Ah una spada di ferro Dai Dagli roba seria Te la pago al comune E poi ma Scorra giocare con La carta La carta E' lì E' lì Allora Scriviamo i nomi Lyok Chewbacca Chi è poi che è entrato Vertiver Ah no Aspetta lui abita con La sua zona Grazie per il follow Bella benvenuta Dalle arance Niente per ora Abbastanza semplice Ci sono solo questi due nomi Per me Ok Gli altri hanno già fatto tutto Ah Che sono ora le 9 e 10 Allora Voglio tutti i proiettili Ciao Le armi le abbiamo preparate Ma senti sta musica tu Ma ne è qua sotto Ciao Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è qua che mostro in giro con la musica. Va bene, che dire. È magia nera questa. Che devo fare? Ah. Salve. Perché io vorrei capire se era la roba che gli ho chiesto Ma i blades non ne ho Però che è la nether Perché i blades non sa dove è la fortezza Come non ce la sa Non sa dove è la sua fortezza Ma se siamo andati insieme all'ultimo Il mio fratello non è venuto Sì che è venuto con noi La fortezza del nether Dove sta la nether Siamo andati insieme Io, te, Panzer e Carlo che è caduto nella nave Ah, vero, giusto, non era lui E beh, tu lo sarai Non puoi farglielo vedere te Non puoi farglielo vedere te Eh, io non so dove è, mi ricordo Ah, vabbè, siamo partiamo bene Io me lo ricordo, in realtà Ma tu sei scemo Ma comunque, senti un attimo Dove è il signor Wolverine? Eh, appunto, è anche Gilberto Lo cercavo, non so, spermo, lo chiami Per il veicolo, ho più cazzo Signorina, mi sta accendendo a tappa a buchi adesso Eh, devo ampliare qua questa parte del fabbro Quindi appiattiscono Ah, ok, ma ho finito tutte le strutture Eh, sì, devo fare questo e poi passo alle robe del comune Ah, già finito Pozioni, negozio lì a minatore Sì Ma sicuro? Non c'è anche il negozio del minatore Io ho visto il suo libro, ho letto Dal suo libro, eh Dopo controllo Perché Perché me lo sono Dimenticata perché C'è anche l'ampliamento delle pozioni, ho letto No, le pozioni le avevo fatto Ah, già fatto L'ampliamento Sì Ok, ok Ma io non lo vedo fatto Ma le pozioni non sono ampliate nel negozio Che figo Devo parlare con Stella Forse dovrei chiedere a lei Ciao, sono un'amica Ciao, sono un'amica di Marco Se un'è lì dalla finestra ti do il mio numero No Scusami ma Io sono gay Salve Ah, ok Dove è Stella? Un attimo che Cercavo A casa Come a casa Non riesci a pagare le tasse miele di mattina Ah, forse a casa Aspetta Cazzo Ah Ma devo andare dall'altro lato Ah, sì Vai Oh, è già su Signorina Stella Avevo una domanda Ma lei il negozio a pozioni Ce l'ha finito? Eh Tutte e due insieme Ah, tutte e due insieme Ok Ma deve fare adesso il negozio del minatore Giusto? Sì Ma scusami Quella struttura delle pozioni Allora la devi demolire Non ho capito Cosa farai? Eh, eh Infatti O che faccio per demolirla? Ho pagato sia per la costruzione Che la demolizione Se ad me dovresti dirglielo Perché non ha capito questa cosa Perché non sapeva manco del negozio Ma c'è scritto Ma c'è scritto? Io ti consiglio di dirgli Ti dirgli che devi demolirti l'edificio E che hai unito due edifici Dimmi Ah, ok Riscuali tutte le tasse degli altri Perfetto Ma come è morta nella lava? Stava vicino a favore Oddio Gli ha scassato il coso automatico Gli ha scattato il coso увидеть Mi sa che lo devo aggiustare io Ma andiamo a vedere cosa è successo, come ho fatto a morire nella l'aio Non avevo capito se potevo farlo o no No, in realtà sì, però No, 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 io tolgo il lavoro perché non avevo capito se potevo o no Sì, sì, può qua No, 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 lo demolisco io così gli tolgo il lavoro e poi farei prima i suoi lavori Ma più che altro, anche il negozio minatore, si ricordi? Sì, poi glielo faccio No, perché non avevo capito Vale se potevo morirlo Eh, vieni, vieni Aspetti, vieni Stella Aspetti, io, tu mi vuoi giustare l'armatura? Non ho esperienza Eh, riparla Allora, mi sa che devo modificare il foglio di stella perché non mi ricordo Può essere che l'abbiamo fatto ma non mi ricordo Ah no, non l'abbiamo fatto perché adesso l'edificio dovrà essere demolito Giusto Ah, che difficile fare il doge Ricordarsi tutte queste cose Aspetti, intanto dov'è il documento di stella? Stella, 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 stella Dovrebbe essere questa Wow, che precisione Allora, terreno più attività Dobbiamo scrivere 10x10 Terreno più attività Unita Ok Ok Dovrebbe essere solo questo Andiamo dal mio Dai ragazzi Che dobbiamo fare notte No, 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 no No, no, no No, no No, no Dov'è? Dov'è Stella? Non è nel negozio, no? Mamma mia, che belli qua sotto Salve signorina, se devi pagare le tasse Facciamo adesso, così si leva a pensiero E un'altra cosa Comunque prima delle strutture nostre allora facciamo minature Non si preoccupi perché comunque in questi giorni siamo impegnati esternamente Allora andiamo avanti Andiamo dalla signorina Stella che mi serve comunicare l'abbattimento dell'edificio Vabbè E quell'edificio adesso è abbandonato quindi puoi eliminarlo Ok, questo non sapevo per questo se no lo toglievo Ma non sapevo essendo che ho lavorato la costruzione Non sapevo se potevo farlo il mio Vabbè ma devi prima più che altro modificare i documenti Perché se no va a finire, non dimenticarti mai Quando unisci due attività in una Ti conviene sempre andare in comune a dirlo Vabbè intanto abbiamo modificato tutto Sì ragazzi fate il più presto possibile che a 45 partiamo per la missione Ok, allora Devo, Devo, prima l'idea dell'edificio è stata d'accordo Ok, allora Ok, allora Ok, allora Ok, allora Salve Sono 25, tanto hai solo un'attività Sì Perfetto Porca Sto arabo di merda ladro La violenza E che questo cammini sempre davanti Allora signor Liu che è tutto ok Allora stipendi Allora stipendi venite In touch che tu sei più rapido Prima Il signor Liu che è il signor Liu che è il signor Simon Si prenda il signor Liu che ti ha il signor Aaron Quanto devi avere, tu hai l'attività 25 più terreno 15, 40 Niente, hai pagato No, 25 No, mi devi dare 10, 5 giusto? Perché la casa è intestata al tuo amichetto Vabbè, non pago Non pago, ok? Ma che non pago? E te sparo, vieni qua da misa E non li ho, aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Poi se li ho qua Aspetta, venga sopra perché Aspetta che venga un po' Un po' storto, lo so Intanto scrivo qui Allora, prendiamo il libro E scriviamo tutti quelli che hanno avuto È visto, sempre bello Si prepari che tra 10 minuti partiamo Guerra Salve Salve Ma chi è questa bellissima principessa? È il cugino Come è il cugino? Ah, è il maschio Non sa fosse donna Ma che bello è il mantesino Fai V V di Verona Activation Ok, adesso Se lo sei a memoria Poi Activation Activation Type Salve Ascolta Buono Ti dai due stack Da 64 Perché quelli che ho io Uno non è staccabile L'altro non è staccabile Eh, buttameli che te li cancella Te li to Te li cancella Tutto sono due stack Se riesci a grupparmeli Aspetta Stiamo un attimo sistemando un po' Sì, sono i miei di blitz Qua Verdi in blitz Sì, se ce li hai Sì Oh, quanti ne hai Va bene Quanto me li daresti? Ah, quanto me li daresti? Salve Simon Ok, quindi questo è il tuo cugino Da questo lungo viaggio dall'est è venuto Eh, sì, sì Immagino, sarà stanco anche Guarda qua che armatura Questa qua è la che usano I catacorrati Vai in nudo? Il vestito, lo vedo il vestito Io vedo solo un omino Tutto nero Non è tutto nero, è grigio nero Eh, vabbè, siamo lì Eh, vabbè, allora Ok, sono i stream No, ok Fai V di Verona Esci da qua V di Verona Ciao Come va il suo lavoro secondario? Va bene Va bene? Ah, non male dai Ah, buono, buono Perché c'ho un blocco di Aspetta Aspetta un attimo Vieni con me Dove secondi e ci sono La signora Gilberto Tieni Dica Andiamo Venite, venite Salve, buonasera Buonasera Mi hanno, mi ha giunto a voce Buongiorno Che tu sei il cugino del signor Simon Sì Quale mi chiami? Eh Vedendo un numero dai Ah Sto mangiando Allora Mork Allora Mork Ok Almeno ha più senso il tuo nome Che quello loro Che sono arabi E hanno Christian Simon Vabbè Ciao Mork Cacere di conoscerti E benvenuto a Osiris Noi siamo una repubblica Fondata con il doggiato Non siamo una repubblica normale Ma siamo una repubblica mercantile Come vedi Questa è la sala La mia sala E quella è un quadro di me Da giovane Quando Era un semplice generale Prima di diventare Un capo di stato Detto questo Come mai è qui Di passaggio qui? Avrebbe venuto a trovare il suo cugino O per rimanere comunque a vivere? In realtà Per entrambe Per entrambe le ragioni Ah perfetto Perfetto Quindi diciamo che Vuoi provare una nuova vita E vedere come ti trovi Sì È giusto È giusto Ci sta Noi siamo in buoni rapporti Con l'impero di Sherban E con i fratelli gemelli arabi Quindi per noi Benvenuto E se vuole Vedi seguirmi Andiamo nella sala Tesoriere Dove effettivamente Possiamo farti diventare Un cittadino Con tutto il diritto Ciao signor Gilberto Presentati al signor Gilberto Qualsiasi cosa Lui è il tesoriere Si occupa di questa sala Intanto presentati Lui è il signor Mork No Mork si chiama Mork 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 Vabbè È la vecchiaia Allora Noi abbiamo un posto libero Qui Allora signor Mork Come dice il nostro caro Tesoriere Ho scritto bene Sì perfetto Questi sono i tuoi documenti E andiamo un attimo A registrarti E a darti Un piccolo Incentivo Per effettivamente Rimanere Parte Con noi Allora Intanto le diamo I soldi per la disoccupazione Il reddito di Minecraft E Venga qui Andiamo un attimo A registrare Il suo documento Allora Lei è il signor Aspetta che Devo un attimo Scrivere Allora Documenti Mork Ok Perfetto Perfetto Allora Lei adesso è registrata Ufficialmente E non so se aveva già idea Di cosa voler fare Nella vita O meno Magari Minatore Minatore Nel senso Aprire un'azienda O intende Lavorare per qualcuno Un'azienda Direi E con i soldi che hai Non credo che ce la fai I miei Ah ok Ok ho capito Cosa intendi Perfetto Allora Signor Mork Possiamo fare Questa cosa Intanto Paga il tuo Cugino Ci sta Ti offre lui Però Io Se potrei Anche aggiungere una cosa Ma portarlo con noi in battaglia Che ci servono Eh lui era un combattente Nel legno di Sherman Quindi può venire a combattere con noi Eh si Momentaneamente Gli diamo una piccola paga Il comune Vieni qua Allora facciamo una cosa Lei combatte oggi per noi Noi ti diamo una piccola paga Giuntiva Tieni Questi soldi Consembrali nell'ender chest In caso qua giù Quando non hai una cassa tua Come questa Metti nell'ender chest Sono in giro per il villaggio Ad esempio qui Soldi Non perderli Sono fondamentali Per te E quelle le casse Vedi Puoi andarli a depositare Intanto che non ti servono Quindi Per oggi sarai reclutato Ma intanto apriamo Questo contratto Allora Signor Simon Partiamo dal presupposto Per aprire la licenza Sono già 5 Quindi già sai Licenza 5 Devi aprire 2 attività Da Attività Quindi Aspetta Terreno Più attività Immagino Vuoi far partire Come sempre tutti 5x5 Ok Terreno Attività 5x5 Terreno Più miniera Miniera 5x5 Quindi sono Letteralmente 20 45 Monete Ah Falci Rubats Eh Per questo 45 Monete Eh certo E' costoso E' in più Devi comprare 8 cartelli Per disegnare I suoi terreni E E niente Vai Ma le ho comprate Abbastanza Le ho comprate Abbastanza Ok Vabbè Allora ci pensi tu Per lui Sì Sì Fagli scegliere i territori E spiegagli Che le miniere Deve essere abbastanza Esterne al villaggio Voila Allora ci pensi tu Libera scelta Allora Salve Ciao signor Gilberto Mi dica Io ho messo La netherrock Sì sì Vabbè Però adesso Non ci serve Perché ci servirebbe Lo zucchero Ma Mi sa che Ammazzerò Chi si occupa Di questo Mi ha fatto pagare 8 stack E ce l'ha davanti Ai suoi occhi Appena entra Nel nether Per un po' Io la volevo vendere A 8 Ho dovuto aumentare I prezzi Eh Immaginavo Vabbè Ci sta Amen Purtroppo A contrattare Non è sempre facile E si vince Sì Soprattutto se la gente Ha inventato Pronto per la battaglia Sincero no Ma Alexia No Tra la giro Non puoi entrare Ok Ma Già vi avete avvisato Che oggi Era l'ultimo giorno No Però io per ora Non parlo più Cioè Per ora non parlo più Con nessuno In genere Minchia Siete andato Un bambino depresso No no Ma Perché in genere Però non c'ho voglia Di entrare su Discord Di sentire tutto il bordello Che fanno Vieni nel mio Discord E sei tranquillo Diciamo Minchia Gua diciamo Sei serio No è tranquillo Per carità Non dico che non è tranquillo Però comunque Noi siamo lì Parliamo E giochiamo insieme Divertiamo Ma se io Sento Entro per divertirmi Così Ho più che altro Le canne da zucchero Le gliele devo raccogliere Ora io le raccolgo E gliele metto in una cassa E servono Perché a breve ci serviranno No perché Mi ha avvisato Che non riusciva ad entrare Perché era stanchissimo Vabbè Comunque lui Ha tre strike Anche quindi Da venerdì Dovrebbe Per forza Entrare E invece Giovi Quindi Che devo fare Con Giovi Non lo so Far quello che vuole Sempre Perché bro Viene a vedere Una cosa Comunque una cosa Veloce Prima aveva scritto Quattro cose Guarda adesso Prima aveva Quattro due costruzioni Che doveva fare La gente si era prenotata Non è venuta La gente si è scocciata Della data Gli ottimi costruzioni Vabbè Faccio una ragione Hanno ragione I costruttori Cioè Le persone che volevano Ecco Vabbè Comunque Io Io scaverò Alex e dico Cosa devo fare Perché L'ultima volta Una cosa Ma Io per Per parlare di E Come si chiama Meccanico Che è che fa il meccanico Meccanico Aspetta Intendi Per cosa Aspetto precisamente Per una farm Di canela Zucchia Ah Con l'ingegnere Martina Martina Ma Riunione Aspetta Natio Ah Vai Vai Cicci Riengere Riengere L'abbiamo fatta Dobbiamo solo organizzarci Proprio per partire Letteralmente Vabbè Io ho visto che Potrà pisciare Mi vado a mettere là in sala di riunioni Vai 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 Intanto troppo coscia perché vediamo lì Tra tre minuti Guerra Guerra Vabbè 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 e questo è un'altra parte guerra! 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 salve ragazzi carichi pronti aspettiamo gli altri e iniziamo che vabbè non è che dobbiamo fare riunione dobbiamo prepararci per partire tanto abbiamo fatto tutti i rifornimenti tutti siamo pronti ok intanto abbiamo questi cinque minuti per organizzarci ragazzi prima di tutto il viaggio sarà lungo e il viaggio non sarà tramite mare quindi marinai lo so avete più confidenza con le navi e combattere con le navi ma tranquilli non succederà nulla di grave dobbiamo fare attenzione fate attenzione imboscate qualsiasi cosa dobbiamo direggerci un posto molto lontano che è anche fuori la mappa a piedi quindi uniti vicini non disperdiamoci cerchiamo di fare le cose nel modo giusto cibo ne abbiamo abbiamo i zaini i packet support del nostro team eccoli qua qualsiasi cosa troverete qui verranno messi nelle postazioni di battaglia nelle nostre avamposti quindi c'è tutto tranquilli sia frecce da muzzaino mannaccia marron stai sembra nanzo cazzo mamma mia lo sparo allora ragazzi siete quasi tutti pronti no aspettiamo gli ultimi quattro minuti ci stiamo organizzando allora ragazzi una cosa importante che cazzo la scimmia ok ho capito che non c'è felipe però non devi fare felipe 2.0 allora ragazze prima di tutto vi spiego in modo più simpatico e carino possibile la missione sarà dura saremo nel territorio nemici non sapremo cosa ci aspetterà possono esserci imboscate può succedere qualsiasi cosa ok quindi tranquilli non abbiate paure ragazzi mi raccomando i marinai voi che siete esperti di con l'arco fateci supporto e non ammazzateci quando pushiamo mi raccomando tra tre minuti aspettiamo tutti quanti come ho scritto al 50 si parte signor turi io si ho il cazzo durissimo mi raccomando ragazzi delle cose importanti ascoltate ma hai vado con l'aereo? no hai vado con questo seicolo? no abbiamo non so neanche dove dobbiamo andare no scusa eh allora ah beh allora cosa importante dove sono i comandanti vabbè tu in questo caso daniel se da solo ti autocomandi quindi ma gilberto e ben dove è gilberto? no c'è ma io seguo scusa ma io non ho murse mio fratello veramente sono ma che cazzo stai dicendo? dov'è gilberto? allora un attimo con oggi organizzeremo le cose fatte bene ragazzi oggi verrà scelto chi guiderà l'esercito e chi guiderà gli arcieri ok? va bene? gli arcieri chi è che se ne deve occupare? secondo voi? l'ammiraglio l'ammiraglio perfetto questa volta noi siamo siamo il doge e c'è anche il barone ok? però questa volta faremo comandare l'esercito a ben quindi ascoltate ciò che dice e ben mi raccomando non suicidare le truppe in battaglia discorso 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 il discorso lo farò quando veniamo qua? come veniamo qua? quando siamo in battaglia da vincendi lo farò in battaglia ma che tu devi fare il discorso da battaglia? devi caricare i gutri allora fai una cosa pensalo appena arriviamo nel punto allora se vuole io faccio il discorso per gli arcieri allora ascolti ascoltate va bene perfetto mi piace ragazzi due minuti iniziamo a prepararci mi raccomando truppe armature indossate le armature indossate le armature c'è link senza armatura link ha un'armatura decente da potresti fare ma infatti raga porca puttana che bordello non sentivo il signor vertiver cosa hai detto? per armatura nuova dovrà pagare la cagliotto giusto? eh sì sì aspetta che è qui aspetta se c'è un armatura è un fallito no non parla di chi l'altro ma parto un'altra volta si che può andare chi ti ha detto che non può? c'è andato altre volte ed è morto una volta in realtà ragazzi siete pronti? no ma che tu partenza ragazzi partenza andiamo seguite i miei passi cosa? no vabbè partiamo non cagate è 50 preciso io ho detto a 50 si partiva allora ragazzi la strada ve la faccio vedere io perché ho tutte le informazioni grazie alle nostre spie quindi ci dirigiamo nel punto giusto prima di tutto dobbiamo andare nel posto magico che abbiamo difeso con le unghie bravissimo prima ci dobbiamo dirigere lì per effettivamente parlare con i nostri alleati e farci dare qualche truppa non so ma alcune truppe saranno al villaggio sui bravi noi andiamo intanto ci dobbiamo muovere tranquilli quelli stanno correndo come se non ci fossero domani io non mi ricordo ma che c'entra dietro a doge che cazzo corrono è che è ben diverso allora i viciamini erano tipo avanzati nella foresta e per il perimetro russo guerra guerra mi manca la voce di pizza però esatto siamo sott'acqua non possiamo parlare sott'acqua a cazzo siamo al film si ah oggi i panzer rappresentano i templari vero? di vergogna no barone la voglio bene attenzione sempre oh ma mi ha detto che la voglio bene stavo scherzando ma non va bene ma non mi ha freccia ma io solo non ho stacchi i frecci fate attenzione ragazzi zombie ragazzi abbiate pazienza aspettate qui radunate le truppe dove è il generale? raduna le truppe qui a centro allora che cazzo fanno qui? allora giusto mi sono dimenticato eccoci allora proprio dietro di lei figlio ok va bene fatto ho fatto quello che dovevo fare proprio dietro di lei mi piace che me lo metti a culo salve allora ragazzi ho parlato con il sindaco del villaggio ci hanno dato un po' di truppe poche ma dovrebbero bastare per la battaglia direi è momento di muoverci seguitemi fidati di me Doge vedo luci davanti Vedo luci davanti Sì fate attenzione ragazzi Oh Doge Quello è avamposto che abbiamo assalito tanto tempo fa Andiamo a vedere se è stato Abbandonato o se ci sono truppe nemiche Dobbiamo fare attenzione Agli avamposti nemici Lo vedo nessuno Doge Allora fatemi un attimo Fatemi mettere il signor qui Perché sennò va a finire che lo ammazzano Uscite un attimo che lo chiudo dentro ragazzi Che è FK abbiate pazienza Allora ragazzi seguitemi Quindi l'avamposto nemico è stato abbandonato Dobbiamo fare attenzione ci sono altri avamposti È qui Ah ecco I miei alleati Ci sono passati qua Potete fare molta attenzione ragazzi Aspetta venite di qua Dobbiamo fare attenzione Perché lo sai Possono scoppiare battaglie in qualsiasi momento Eh lo sai Sì è ovvio ragazzi fa freddo Pensa che questo è l'inverno normale C'è stato Ah è vero vi devo parlare anche di questa cosa ragazzi Appena ci facciamo un punto di incontro Appena ci organizziamo Vi spiego una cosa che Forse sia meglio parlarne a meno con voi soldati E credo sia il momento di essere più chiaro possibile Quella cosa che ha detto a noi Eh sì sì Per forza Eh non ne so in realtà Di là anche soldati Beh secondo me è giusto Siamo quasi arrivati appunto È dolore attento al ghiaccio Potremmo cadere So lo so potremmo frantumarlo Avamposto Fate attenzione ragazzi Sembra tutto abbandonato Allora ragazzi Parliamo un attimo Siamo Siamo sinceri con i soldati È giusto dirlo a tutti quanti Ragazzi noi stiamo facendo questa missione Che per noi è fondamentale Questo Se vinciamo questa battaglia Potrà darci Un grande vantaggio per il futuro Ok Perché c'è Grazie all'esercito L'impero di Shervan E la sua tecnologia sviluppata Anche sul meteo Loro sanno Sapete cos'è un calendario? Forse è Dintouch Che viene da un paese Importante Sai cos'è un calendario? C'è proprio nei nobili Nelle loro case Ma non è qualcosa Diffuso tra la gente Ok perfetto Il calendario ragazzi Vi spiego cos'è Il calendario Dà la possibilità di vedere il meteo E capire Che tipologia di Tempo ci sarà In che stagione siamo Noi attualmente Non lo sappiamo ovviamente Non abbiamo le capacità Però Ma che cazzo Quello Ok Ma andate nel discorso Vabbè comunque Come ci ha detto Il nostro L'impero Shervan Sta per arrivare L'inverno E noi vi ricordate Che abbiamo parlato Dei ghiacciai Che le truppe Non potevano passare Dovano farsi giro lungo Verso volpe Perché i ghiacciai Erano deboli Che si rompevano facilmente Ecco Se arriva l'inverno Possono passare Quante truppe vogliono E questo è il problema Quindi ragazzi Potremmo Rischiare Di avere un'invasione Più forte dell'altra Noi abbiamo già dei progetti Per difenderci Ok Però Oggi Se porteremo Questa vittoria Potremmo fare qualcosa Ok Potremmo sopravvivere A un futuro assalto Poi Andiamo intanto Guerra Avanziamo ragazzi Sì doge Però Non fa una parte Il discorso di Ben Il discorso Di Ben La parte più importante Quale Il discorso di Ben Aspen Ma tu mi Sottruogli Non so eh Ma non adesso Aspè ancora no E' lontano ragazzi Che cos'è Ma non c'è niente Allora ragazzi Abbiate pazienza Che devo ricordarmi Un po' la strada Dovrebbe essere Da questo punto Ah So dove vuole andare Ma lei è sicuro Non è sicuro Le informazioni Che ci hanno dato I tuoi alleati Sono quelle Praticamente Il tuo alleato Ok fermi Fermi Per favore Fermi 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 Venite qua sopra Ragazzi Non fatevi notare Però guarda Oddio Fammi vedere No Doce Quanti ne sono Allora ragazzi Dobbiamo formare Un accampamento Qui Inizio a preparare L'accampamento Per favore Posizionate Scudi Allora Venite Prendete Cibo Se avete Bisogno Pozioni I scudi Posizionate Questi sono Da posizionare Così guardate Guardate ragazzi Posizionateli Con shift Tasto destro Eh Posizionate ragazzi Posizionate Dobbiamo Accamparci Meglio E se avete Bisogno Di cibo Ci sono Pozioni Prendete Una pozione Il cibo Ragazzi Prendete Tutto Quello Che avete Bisogno Avete posizionato Tutti i scudi Oddio Quante pozioni Ci sono Prendete Ragazzi Le pozioni Ragazzi Posizionatevi Con i scudi Sto cercando Di mettere Più scudi Possibili Ragazzi Aspettate Vedo Vedo Troppe Eh Lo so Ragazzi Prendete Le frecce Gli arcieri Per favore Non avrei mai detto Ci sono anche Io sparo Io sparo No Chi è che sta avanzando Ragazzi Siete pazzi Qualcuno che ha il cannocchiale Può controllare Cosa stanno facendo Vediamo Un attimo Osserviamo Ok Ancora Non ci hanno notato Ragazzi Dobbiamo fare Attenzione Allora Gli arcieri Chi sono gli arcieri Per favore Gli arcieri Rimanete in questa posizione E cercate di Cercate di bombardarli Vogliamo il discorso Qui Carlo Aspettate Fammi mettere la canzone giusta Ma come siete lontani Avete una rambina di merda Come fanno a non vederlo Scusami Vai vogliamo il discorso di Ben 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 dai Signori Ma insieme Abbiamo conquistato Ma abbiamo anche perso Molte battaglie Però Oggi Può darsi che la battaglia È più difficile Ragazzi Quindi Sull'onore di Osiris Andiamo A dargli in calcio In culo Guarda Osiris Guarda 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 Marinai Apropa la teglia Iniziate a bombardare Fanteria Avanziamo dai Tu sei fanteria Vieni è normale Andiamo ragazzi Fate attenzione A carico Vai ragazzi Entrate Ragazzi Ragazzi chi c'è all'interno Ragazzi ci sono I libri Messaggero Diario del generale Cosa è successo? Ci sono dei libri Torniamo indietro Torniamo indietro adesso Aprite le porte Aprite le porte Ma è una trappola ragazzi Non ci sono Apri le porte Apri le porte Andiamo andiamo Via via Torniamo indietro ragazzi Andiamo indietro per ora Tornate indietro Raga preparatevi Veloci Ma avete ucciso C'era qualcuno Con la bandiera all'interno Avete visto? No nessuno Negativo Come negativo Io ho visto uno Si chiamava generale Chi ha ucciso generale ragazzi? C'era uno che si chiamava generale Ah io ho colpito E questo è lo standardo Ah hai preso Hai preso lo standardo del generale Quindi è morto il generale Raga è morto il generale Ragazzi Ragazzi Ci abbiamo fatta Ragazzi aspettate aspettate Ho trovato dei libri Fatemeli leggere un attimo C'è altri libri Però sono Libri incantati Sono libri incantati Ragazzi Ci sono due libri Leggiamo Diario del generale Ok Diario del generale Abbiamo attaccato Volpe rossa Con successo Ma abbiamo perso Metà dell'esercito Abbiamo sottovalutato La piccola repubblica Dobbiamo lasciare Le truppe nei boschi E lasciare Volpe rossa E tentare Piccole imboscate Per indagare Il nostro nemico Crederanno Che abbiamo portato Tutto l'esercito Ma in realtà Il nostro 80% Dell'esercito Si trova Nelle fortezze E villaggi Che controlliamo Come 80% Quindi Quelle 1500 truppe Era il 20% E doge Se erano così forti D'attaccare il legno Di Sherman Vuoi sapere Quanti truppevano Eh appunto Leggiamo Manderò Dei messaggeri Al nostro re Per fare Per fare sul serio Con questa piccola repubblica Per ora Loro saranno Impegnati a combattere Con i guerrieri Lasciati lì apposta Per fargli credere Di aver vinto Quindi Volpero Saranno abbandonata Di proposito Ok Ma questo è soltanto L'inizio Appena saremo pronti Invaderemo di nuovo La repubblica Capisco di essere Uno dei generali Più deboli Dei quattro capi clan Come il più debole Ma Ma sono deluso Che mi abbiano Soltanto Assegnato 1300 uomini Capisco che ci sono Anche i vichinghi Capisco che ci sono Anche i vichinghi Come nostro nemico E per ora Siamo in tregua Appunto per questo Dovevamo schiacciare La repubblica Speriamo che il re Decida di fare sul serio E mandare anche Il generale Arian Il secondo più forte Credo Aspetta Fammi vedere Per annientare Osiris Bastino 5000 uomini Attendiamo gli ordini Fammi vedere il libro Messaggero Per ora Ah questo è il messaggero Per ora generale Tieni la posizione Sicuramente i nostri nemici Non si spingeranno Di nuovo Ad attaccare Questo piccolo villaggio Barravan posto Con i suoi uomini Sicuramente riuscirà A difendere la posizione Attende Attende i rinforzi Come attende i rinforzi Oh caputtana Allora Questo qua è il loro villaggio È il villaggio di Norvik Allora raga Dobbiamo fare una cosa Attacchiamo il villaggio E dobbiamo eliminare Quello che rimane Dell'esercito Controlliamo Do fuoco Sì dai fuoco A quello che possiamo Bruciamo la città ragazzi Dobbiamo finirli Saccheggiamo Vai Date fuoco a tutto Rubate quello che volete Tutto è vostro Chi prende è suo Attenzione Truppe nemiche Quella cosa è per Scogna Quella cosa No raga Non abbiamo i picconi Chi c'ha i picconi Trovate chi ha il piccone Ai Attenzione Panzer No Panzer vieni qua Mi servi tu adesso Ti metto in creativo Ok Vieni No No Ma che sei scemo È per scogna L'abbiamo fatta apposta Allora Fra Ma ti metto Mi serve una mano tua Ok Ti do Tieni 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 questa roba Vai nei boschi Vai nei boschi Sì Ma ti metto in creativo Vai nei boschi E fai quella roba che ti ho detto Ok Posizioni Sì vai Ragazzi Come vanno a bruciare Raga ci sono altri spawn Chi ha il Ma Dovete distruggere sti cose Distruggi Signorina Torna Non lo so Raga Andate Andate A aiutare Gli altri Subito Vengo Vertiver Vai dagli altri Tu un attimo Aiuto Panzer A fare una cosa Dimmi Oddio Se non vi metti credito Ah E abbiamo fatto Andiamo via No niente Via 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 Raga perché state qua Saccheggiate il villaggio Ah ci avete bloccato Gesù Cristo Vai salite Salite Raga Avete bruciato tutto Sì Il resto Dammi quel acciarino Dove cazzo sono io Raga venite seguitemi Raga Venite venite Se mi troppo un acciarino Vado in giro Ma è bruciato tutto È bruciato Tutto state bruciando Bruci tutto Simon Tutte le case Devi bruciare Qualsiasi cosa No Quelle sono Ancora Non sono spende E non ha un acciarino Non ha più acciarini Chi non ha l'acciarino Chi aveva l'acciarino Io È lui Ma la chi È brucia Come viene Ah allora Occhio Ce ne sono ancora Di truppe vive Raga fate attenzione Fate attenzione Ma dove sono arrivate Queste truppe Scusami Io Te ne hai sposti un po' troppo È dietro Via Raga ma dove cazzo Non spingetevi così avanti Dove state andando Che è successo Quindi non abbiamo acciarini Per bruciare il resto No Hai anche ragione Brucia 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 tutto Vai Vai Avanzi Allora Andiamo verso Di qua Andiamo a controllare Fate attenzione Ma questo Non volete prenderle Vabbè Comunque Niente Raga Avanziamo Dai E si Diamo un'occhiata Se hanno altre strutture Forse hai un po' ragione Andiamo in canura Perché nei boschi Dopo faccio rimboscato In canura Siamo più liberi Sì ma è inutile Penso che sono finite Le truppe nemiche Eh non lo so Io penso che possiamo Anche andare via Da qui Sì Dobbiamo sfingerci più avanti Secondo me stanno facendo Un attacco a nemico No no Secondo me no Abbiamo finito ragazzi Ma non credo Che ce ne siano avanti Credo Non lo so Vabbè Noi Noi ci cambiano In controllare Boh Intanto saliamo Guardare Dall'alto Arugazzo sta E ti stiamo aspettando Raga Saliamo sugli alberi Per vedere un attimo La visuale Scusami ma io Vado io Vado io a guardare Ah c'ho il binocolo Vengo con lei Tengo il veicolo Che vuol Ah è vero Provalo Vedi se vedi Dacci informazioni Col veicolo Prova No Scenda R R Sì R Vado a vedere Oh raga Io direi di tornare indietro Allora andiamo Possiamo ritirarci Non credo ci siano altre troppe Via gli altri Di ritirarsi ragazzi Abbiamo finito Qui il lavoro Raga Torniamo all'avamposto Non mi sembra Che ci siano altre troppe Andiamo Dai raga però Ma perché usate l'acqua da vicino Io non capisco sta cosa Doce No non c'è nessuno Boh andiamo via allora Dai Vediamoci Possiamo andare Con una vittoria Con una vittoria Con una vittoria schiacciando Oh Tu c'è Tu c'è Cosa Cosa nei boschi Dei mici Madonna Madonna Andiamo ragazzi Arrivano le nostre truppe Andiamo Guerra Oh Pagamma Finiamoli vai Raga fate attenzione Fate sono tanti No ho sbagliato Raggruppatevi No Signor Gilbert Aspetta, vai via da qui Turia, vai attenzione Vieni qua, signor Dove sta? Venghi, venghi Sono uscito Sì Tieni Tieni, tieni Tieni l'arco lungo Tieni questo Tieni questo Tieni questo Tieni questo Tieni questo Tieni questo Uno Due Tre Quattro Vai dagli altri Vai dagli altri Raga, ritiratevi All'avamposto Veloci, veloci Sono troppi Raga, sono troppi Via, via Ritiratevi Ritiratevi All'avamposto nostro All'avamposto Ritiratevi ragazzi All'avamposto Occhio creeper Correte Scappa Sono troppi Raga, sono troppi All'avamposto All'avamposto Sopra Raga, sono troppi Raga, sono troppi Raga, sono troppi Portami al cazzo Portami al cazzo Via 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 Ragazzi Vai 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 Ragazzi abbiamo lasciato l'avamposto Via Ritiratemi Ritiratemi ragazzi Ragazzi Ah no ha preso il nostro avamposto Veloce prendetelo Riprendetelo Non possiamo perdere l'avamposto Veloci Ragazzi la mano Faccia attenzione Mettete dietro Vieni agli scudi Vieni agli scudi Veloce Vada vada Sopra sopra Vai 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 Vada vada Vai Si nasconda qua dietro E' bravo Così li puoi colpire Ti aiuto io Attento dietro Attento dietro Attenzione Arrivano altri Arrivano altri Arrivano altri Arrivano altri Ci possiamo far Raga non vi fermate Ma dove sono tutte le truppe raga Turi venga qui Turi Turi salga Veloce Abbiamo bisogno di te Venga ritiriamoci Veloci Non è entrato Stanno arrivando la tutta dietro Raga Madonna mia quante truppe Veloci Ritornate Ritornate Raga Andiamo all'avamposto Tenete l'avamposto Ragazzi Non è finito Raga Sono altre truppe Hanno preso il nostro Avamposto Vengono prendere Nostro rifornimento Velona raga Veloci Aiutate Marci indietro Unitevi Uniti Uniti Sguardo di berserker Aiutate Turi Aiutate Turi Turi Ci siamo Ci siamo Ritorniamo all'avamposto Raga Non lo perdete Veloci Andate 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 Raga Ci stanno chiudendo Ragazzi Ci stanno chiudendo Arrivo Raga Rinforzi qui Ragazzi Rinforzi Rinforzi Ragazzi Stanno chiudendo Veloci Veloci Adio Indietreggiate Scappate Ragazzi Scappate Siete chiusi Sopra Armi Non vi arrendete Vai Vai Puniteli Vai ragazzi Madonna mia Mamma mia Ragazzi Fate attenzione Fate attenzione I berserker Uccidati Prima I berserker Ragazzi Dobbiamo tenere L'avamposto Se perdiamo L'avamposto Abbiamo perso Veloci Tornate Tornate Ragazzi Veloci Ci stanno chiudendo Di nuovo L'avamposto Posizionate Gli scudi Chiudete A cercare Gli scudi Veloci Se riuscite A cambiare Posizione I scudi Madonna Veloci No Ritirata 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 Scappate Raga Scappate Correte 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 Proprio Correte Scappate Scappa Vertiver Scappa Corri Ragazzi Ritirata 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 Ragazzi Ragazzi Non mi fermate No Non usate L'arco Stood Raga Dobbiamo conquistare L'avamposto Ragazzi Chiama gli altri Veloce All'avamposto Raga Non dobbiamo Perderle All'avamposto Veloci Se lo perdiamo È finita Non abbiamo via di fuga Dobbiamo andare all'avamposto Prima che cade Veloci Veloci All'avamposto All'avamposto Veloci Ci sono altre truppe Bravo Andiamo all'avamposto Ragazzi Ci sono altre truppe Uccidete Queste qua Uccidetele Raga Dobbiamo vincere L'avamposto Dobbiamo difendere Siamo in campo aperto Dobbiamo tenere la collina Ragazzi Ci sono le ultime truppe Qui Madonna mia Ragazzi Dobbiamo tenere l'avamposto Veloci Difendetelo Ragazzi Aiutatemi Ragazzi Dovete prendere L'avamposto Voi avanza Traga Adesso Oh scusami Ragazzi Ragazzi È arrivato un messaggero Panzer Riuscito a contattare il messaggero Il messaggero ci ha detto Che stanno arrivando le truppe E scervano ad aiutarci C'è stato Una notizia Che non sono riuscito A prendere le truppe Praticamente Si sta avvicinando Un esercito forte Dei Si Quello là che abbiamo ucciso Non era il generale Era un finto generale Era un piano Il generale vero Sta arrivando adesso Con le armate Dobbiamo aspettare L'infanzi sherman Che arriveranno tra tre minuti Dobbiamo Prendete i scudi E chiudiamoci all'interno Scendete Prendete tutta la roba ragazzi Lasciate i miei zaini Allora raga Prendete i scudi Andiamo veloci Seguitemi Seguitemi Dobbiamo difendere la posizione Per due o tre minuti Andiamo veloci Eh veni Dobbiamo difendere Porca puttana E dobbiamo lottare Prendete i scudi Prendete i scudi Abbiamo poco tempo Si stanno avvicinando le truppe Panzer sta parlando con il sherman Stanno arrivando i rinforzi Li sta portando qui Veloci Andiamo ragazzi Allora vediamo se ci sono negli zaini ragazzi Questa è la posizione che ci hanno chiesto di difendere ragazzi Vedete che ci sono ancora strutture Spegnete i fuochi Ci serviranno per difenderci Se riuscite a spegnere Veloci ragazzi Spegnete i fuochi Venite ragazzi qua Venite con me Dobbiamo difendere questa posizione Prendete gli scudi E posizionateli Metteteli qua Per esempio Qui vedete che c'è uno spazio Cerchiate di riempire Cerchiate di riempire tutti i lati Ragazzi dobbiamo chiudere dentro Dobbiamo resistere I rinforzi stanno per arrivare Mettete come sto mettendo io Rimanete dentro Ragazzi non uscite Non uscite assolutamente Mettete scudi Entrate Entrate Veloci Sì chiudi Chiudi un attimo Bravo Mettete Avete messo tutti i scudi Cercate di togliere le cose Che danno fastidio Bravissimi Togliete veloci Dobbiamo chiuderci Mettete anche scudi No penso che bastino Bravi No togliete questi qua Danno fastidio Fate tipo tutto liscio Tutto liscio Non dobbiamo intrappolarci ragazzi Ok perfetto Togliete anche questo Chiudete il buco qua al centro Veloci Chiudete Raga veloci State tutti dentro Ok ci siete Vi do i rifornimenti Intanto Aspettate Preparatevi le pozioni Ci sono altre pozioni No niente C'è cibo ragazzi Se volete Solo quello è rimasto Frecce ne ho poche Raga abbiamo rimasto Siamo con poche risorse Chi è che non è riuscito a entrare Quindi fate i pesci Il canto di cibo Sta qua C'erano già C'erano già Ragazzi Fate attenzione Ma perché ti sei messo Allora Panzer Ascoltami bene Spawn a truppe normale Non esagerare Fallo tranquillo Normale Fai in modo che è bilanciato A scadenza 5 minuti Mettiti dietro di noi E spawn a truppe guardie Ma non troppe Metti qualche soldato E poi Fai un attacco massiggio Dei nemici Ok Che deve essere Proprio una battaglia Strafiga Prima per varia Tutte le guardie E poi vai di nuovo A mettere tutti i pillager Che attaccano in massa Ok Adesso fallo in modo modesto Appena vedi che io faccio così Inizia a spawnare le guardie Fermati con i pillager Spawna le guardie E poi Ok Con il video come devi fare Quando faccio il segno Tu metti Le guardie Tipo 40 50 Anche uno stack 26 di XP Dopo Spawni in pillager Quanti ne vuoi A te la scelta Ragazzi Fraguare che io ho gestito Tenetevi pronti No che state a fare Così no no Così ci togli visione Ok così va bene ragazzi Però state attenzione Ragazzi fate attenzione Gli arcieri Mettetevi nei piani alti Bravo Andate da Dintach Gli arcieri Se riuscite a salire da loro Stanno senza prezzo Gli arcieri Ah siete senza frecce Eh si Eh no raga Allora siamo un po' Nella merda Fate attenzione Preparatevi con armi Io ho ancora munizioni Per la mia arma Quante frecce abbiamo In totale Da sopra Che è binocolo Serve intorno E dice dove arrivano i nemici Doge Fate le munizioni Per DMR Sì ma poche Sì ma poche Mi servono per me Dateci informazioni Per favore Ragazzi dovete fare Tanta attenzione Possono essere ovunque Arrivano Mamma mia No Mamma mia Fate stare avanti gli arcieri A chi ha le armi da fuoco Mamma mia raga Non uscite Non uscite Non uscite Oh siete pazzi Oh no Stanno entrando Rimettete scudi Raga Rimettete scudi No Sono entrati Sono entrati Chiudete Chiudete Raga Chiudete Rimettete scudi Rimettete scudi Veloci Adio però non dovete Sparare gli alleati Per favore C'è la terza volta Che ci vedete Voi gli alleati Dagli la roba All'attiva Sì ma non sparate Eh diverti Per la roba Raga La verti No L'ha ucciso Nostra alleata E quello è il problema E Gabri E mi è passato Davanti Date la roba a verti Attaccano Attaccano ancora Difendete Raga Arrivano altri Raga Manca poco Per i rinforzi Dai tranquilli Panzer sta arrivando Con i alleati Aia Ragazzi C'è un disturbatore, bravi Ho un'armatura di qualcuno io Tua Tieni Oh, c'ho uno sacco di frecce A chi servono frecce? A me, a me, a me Tieni Facciamo metà Tieni, taglili tu Il riso mi sta salvando Raga, ci sono altre truppe lì Grazie al sorriso sto soffermando Veramale Raga, questi con l'ascia dentro Raga, state dentro, ci sono quelli con l'ascia Sto entrando, sono entrando Raga, ci stanno circondando Ci stanno circondando Cazzo Sì, infatti è buona Raga, arrivano rinforzi Raga, rinforzi arrivano Raga, andiamo verso i rinforzi Prendete i scudi E andiamo verso i rinforzi Prendete le difese, ragazzi Andiamo, veloci Raga, le truppe di Sherva sono arrivate Venite, venite Costruiamo delle difese in quest'area Raga, mettete i scudi Veloci, veloci Prepariamo delle difese temporanee Guerra Guerra Sì, così è un po' difficile Eh, le dobbiamo prepararci Le rinforzi sono qui Non possiamo mollare Raga, abbiamo truppi ovunque Abbiamo il controllo dell'aria Dobbiamo fare attenzione ai nemici Ripeti Vai, vai, vai Manda, manda, manda Raga, venite indietro, ragazzi Fate attenzione I boschi sono pericolosi per noi, eh Non sottovalutatele Alleati o nemici Nemici, nemici adesso Raga, non vedo nemici Forse sono finite Può essere No, mi sembra strano Dici che ce l'abbiamo fatta Arrivano Vedo qualcuno lì giù Arrivano altre truppe, raga Venite Aiutate gli alleati Attenzione Attenzione Ci stanno chiudendo Mamma Mamma Raga, arrivano altri nemici Veloci Preparatevi Siamo in svantaggio Raga, arrivano Non arrivano Raga, al cerchio Al cerchio Radunatevi Radunatevi Abbiamo perso gli alleati Sono morti tutti Raga, veloci Raga, veloci Raga, ritiriamoci Verso Ritiriamoci Ritiriamoci Seguitemi 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 Di qua Di qua Di qua Veloci 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 Pancer Spawna 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 Arrivano i rinforzi Ragazzi Stanno arrivando i rinforzi Vai Oddio Raga, sono arrivati i sherman È arrivato l'impero Guardali quante truppe Guardali quante truppe Raga, andiamo dai fratelli di sherman La diciottesima arma Raga, ecco i nostri fratelli sherman L'impero è arrivato Ad aiutarci Simon, guarda Vedete cosa ho trovato Vedete cosa ho trovato Ragazzi Rimaniamo con i nostri alleati Venite, venite Fate attenzione Non sappiamo dove sono i nemici Andiamo ragazzi Seguiamo i fratelli sherman No, i nemici arrivano qui ragazzi I nemici Stanno attaccando le spalle Andiamo 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 Eh, aspetta non mi posso Raga, veloci veloci Aiutiamo l'impero sherman Andiamo 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 Ragazzi dove siete? Grazie aiuto Aiuto Porca puttana bastardo Recuperiamo vita Recuperiamo vita Eh dobbiamo tutti andare corpo a corpo adesso Siamo scariche Grazie Grazie Raga arriva un attimo i nemici di là Occhio Perché gli hai sparato Eh se lo spari Ti attacca è normale E ammazzalo quello che ti attacca Andiamo ragazze Dimmi tu Ragazzi Panzer adesso L'ultimo attacco Quello più forte dove c'è il generale Devi mettere anche i mammut che attaccano Perché guarda quanti villager ci sono Devi fare proprio i mammut Vendicatori Un po' di più vendicatori Ok Ragazzi ragazzi Ai Ragazzi dobbiamo radunare Non state Non state troppo lontani Eh lo so ma Il tramonto sta arrivando E secondo me qua ci sarà l'ultima battaglia Ne sono molto sicuro me lo sento Dobbiamo uccidere il generale Sicuramente a noi gli farà piacere avere la persona a battaglia La guerra Quindi prepariamoci Raga mangiate Nutritevi Non so dove può arrivare l'esercito di un amico Però fate attenzione Allora Allora Non so dove Facciamo che ci stiamo spostando troppo ragazzi Dove cazzo state andando Ma dove state andando Torniamo indietro Salve ragazzi Torniamo indietro ragazzi Andiamo al centro Al centro Veloci Andiamo indietro Andiamo con le altre truppe Venite Andiamo ragazzi Raduniamoci Veloci Oh raga al centro sono Stanno attaccando al centro Raga ci sono i mammut Eccolo in generale Raga dobbiamo uccidere il generale Fermatelo Ritiratevi Ritirate Sono troppi Andiamo verso gli alleati Veloci 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 Ritirata Ritirata Veloci raga Indietro Indietro Aspetta Tiriamo anche le nostre alleati Capito Perché se no non combattono Andiamo Vieni Vieni Sono troppi Vagli Dobbiamo aiutarli Andiamo Veloci ragazzi Veloci Raga Attaccano da sinistra Occhio Ragazzi Aliminate sti cosi Sono tank Ragazzi Radunatevi Radunatevi Madonna Io sono fuori Madonna No raga Sono troppi Veloci Raga Stanno attaccando indietro Mamma mia Questi ci ammazzano Portate Portate le truppe nemiche Verso gli alleati Portatele verso gli alleati Venite Venite Ok così gli alleati Ci aiutano Ragazzi Grande ragazzi Ragazzi Guarda No aiuto Oh Ah Ci sono fatti Quei pescioni Quelli grossi Ragazzi Ma quanti angeli Ragazzi Stanno mandando Ma che sti cosi Panzer Metti la strega Per far finta Che il generale Che il generale Però la O P Ragazzi Penso che abbiamo finito Mamma mia Che massacro Andiamo Andiamo Ragazzi 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 Uccidete il mammone Ragazzi 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 Ecco il generale Che sono rimaste Sono rimaste Le ultime truppe Uccidetele Ragazzi Uccidetele Sono le ultime truppe Queste Strega Strega normale In generale No L'abbiamo ucciso No Penso Non ho capito Quello che hai detto Sono sincero Devi mettere Solo in generale Adesso La strega Quella forte Come si chiama Quella che ha i poteri Forti Non mi ricordo Come sia Oh no Corri Corri Mamma mia Veloce Dietro 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 Ma che Chiamo Fatto Ma che Ticone Fermate Ciro Ah ok Non si arrendono Non si arrendono Io Io Non c'ho Niente Ok Ok Uccidete questi Cosi Doge 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 Mamma sono rimasto con mezzo cuore Va bene Doge Ma do Fra Ma mi uccideva Mezzo cuore Sono rimasto Che culo Andiamo Ragazzi Ci sono le ultime Truppe Veloci Ammazzate quello che rimane Dell'esercito nemico No 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 Non possiamo Non possiamo Praticamente più combattere Siamo rimasti in pochissimi E abbiamo più poche Eh sì Ve lo so Ho visto No 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 Non possiamo Raga Non possiamo Ammazzatele tutti Veloci Non possiamo Sono finiti Sono finiti Panzer Basta Porca puttana Fermati Abbiamo finito Prendatevi le vostre cose Ragazzi Abbiamo finito Guarda al lato positivo Con tutte le risorse Codagliate da quale Possa rivendere Per Per esempio Mamma mia ragazzi Ragazzi Mamma mia No Non c'è niente di questo Oh madonna Giulia Di nuovo Come è morta Ah sì vabbè È finita la guerra Quindi possiamo riposarci Metti i scudi qua Questi dobbiamo sempre portarceli Questi fanno la differenza La battaglia più bella è stata Quando siamo stati chiusi Nell'angolo Ma quei cazzo Tirano i ceronti Trafano paura Ci sciottano Ma dove sono tutti i scudi Ciao ragazzi Bravi tutti Mamma mia Eh sì A quanto pare sì Daniel Uno dei due A una scendiamo a tempo Ragazzi possiamo tornare a casa Guardi Guardi Forse Tantatecone Chi c'è ragazzi Guardi cosa ho trovato No sto parlando con Signor Doji Mi piace se Qualcuno è morto E abbiamo preso qualcosa Ma dove è andato Ma dove è andato Ah è là di là sotto Oh penso uno seno Ma la mamma mia Menomale che dove essere Siamo tornati a casa Sì ragazzi Siamo tutti stanchi Lo so Siamo tornati Tu vuole un po' che la accompagni in un altro modo? Ah, no, 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 non ti preoccupare Cioè, porta a chi vuoi con... io voglio... rimango con i miei uomini Dove? Eh, dove? A casa Anche io butto la monnese Questo me lo vendo Dai, stai fermo, che ti butto la monnese C'ho una spada di ferro Ciao ragazzi Torniamo ragazzi Seguiamoli, seguiamoli S'anchezza S'anchezza signor Dodd È stata una lunga battaglia Abbiamo ucciso il grande... uno dei generali E a quanto pare è pure quello più debole No, sì, erano due generali Erano due generali No, no, era solo uno, era solo uno E lì c'è stato un errore tecnico Vabbè, ok Un generale in più, un generale in meno, dai Eh no, ora sono rimasti tre generali Sono tre capi clan Ancora che sono i generali Eh, questo qua in pratica è con l'atto scarso Era quello più debole, sì Che cosa? Il generale che abbiamo ucciso Era quello più debole Tra i quattro Sì, faceva tipo delle magie Sì, ha visto, lanciava tipo la pietra Chiamavano Avatar Ma l'altro non sa la strada Che sta andando dritto per dritto Penso che sia però meglio tornare a casa Che staff a buio Infatti c'è tutta l'armatura E' un'altra appena dipiscia Io sono armatura a pezzi Ma arrivano a niente Eh, ragazzi lo so Disintegrale Tu, ma dove cazzo stanno? Oh, se quello ha luce Ma non dovevo mandare di qua, infatti Vabbè, ormai siamo di qua Dovamo andare dall'altro là Andiamo di qua Ma si può passare L'aspirapolvere alle 11 Cosa? Si può passare L'aspirapolvere alle 11 Sarebbe un po' Strano Eh, ti lamiavamo Dai, siamo qua A Osiris, ragazzi Eh, ma te l'ho detto Che da ghiacciai Si arriva dietro a casa nostra Basta, amici Qualcuno che sta Sono andato a tromba a casa Ma veramente Si è caduto in un cazzo di buco Ah, ok, io sto Noi, che c'è un rei di città Cosa? Pure Pure Dove c'è un rei di città Eh, infatti sto spostando Tutte le truppe Andiamo, ragazzi Dobbiamo uccidere Le raid qua Ma dov'è? Ma dov'è? Ma dove sono? Basta con le battaglie Sono stanco Dove sono? Ok, di sicuro non è di qua Eh, adela Adela Io so solo che avete consumato tutti i rifornimenti che avevano Ah, ma ti trebaronato Ti trebaronato Sono stati Finchiavo, stanno a rompere i coglia Era un'imposcata Doge Sono usciti Appena siamo arrivati qua Sono usciti Vabbè, ma questi sono i I soliti barbari clown Attento Sono abbelenato, ragazzi E che te è vivo Ma abbelenato Ok E basta Bevi il latte Qualcuno c'è il latte Ciao No, la strega no No, no, la strega no Qualcuno c'è il latte Qualcuno è abbelenato Ancora E basta Doge Eh Eh, niente di là Che abbiamo da fare Troppe Troppe No, ma troppe Troppe ondate Ma basta Mi scuro Delle orecchie Dico Bastardi Ma 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 C'è il Gilberto Vedo che In battaglia Ancora Non ci ha fatto La mano No, no No Oggi Ounque hanno ucciso Tutte le truppe Del baronato Mamma mia Eh, ho visto Ma dove sono Le altre truppe Nemeche Eccoli là Eccoli là Eccoli là Eccoli là Eccoli 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 Abbiamo vinto Abbiamo vinto Oh, non c'è più Dove è adesso L'incorsione Dove sono? Ma io Qualcuno è stato Un civile è stato colpito Dove era il civile? No, raga È morto un civile Dove sono i gali? Fortunatamente Abbiamo il fiume A nostro favore A fissi mamma No, non c'è più Ciao ragazzi Ciao ragazzi A far pagare A far pagare le tasse E gli altri Eh ma vieni a comune No qua Ragazzi è finita Finalmente Finalmente è finita Siamo sopravvissuti A malapena Però Abbiamo fatto Il nostro dovere Dov'è Gio? Maggio non deve darmi niente Che c'è Ma che mi dai Bonnezza Ma andate di qua Quasi Diciamo Dipende Da punto di vista Ciao Gio Hai pagato le tasse? Eccomi Sì Ah il negozio Allora Mi pare 13 12 E 10 A Signor Fanto Perché Faccio Metà Con Allora Aspetta Faccio Metà Fanno La scuola Faccio 10 E 13 Dormais Sesso Oh Che partella Gesù Cristo San Sì Sì Sono rimessi In un abitice Vini Allora Già pagato le tasse Lo scrive sul libro Che manca Nessuno Abbiamo pagato tutto Invelo Un piccolo Un piccolo regalo Un piccolo regalo Un piccolo regalo Un piccolo regalo Del tuo ufficio Sì Sì Ovvio 13 Bani Vai Sta arrivando Già Uno United A Bani Un piccolo regalo Ma Un piccolo regalo Un piccolo regalo Un piccolo regalo Ah aspetta venite qua Intanto devo parlare un po' con tutti prima Allora ragazzi c'è Questa battaglia Ha mostrato chi ha la testa Chi ha mente fredda Che riesce a combattere bene E chi invece è ancora un po' subordinato I premi saranno solo per le persone Che effettivamente hanno eseguito Gli ordini dei generali Hanno combattuto Nel modo giusto e sono riusciti Soprattutto a non morire Prima di tutto Allora Ciao ragazzi Gio tu non c'eri quindi Io ho usato l'utilizzo dell'arco Aspetti un attimo che Allora Eccoci Ok ci siete tutti no? Vabbè sì perché alcuni già si sono disconnessi Ragazzi abbiamo visto Tutti combattere E chi ha eseguito di più gli ordini E chi si è comportato in modo egregio In questa battaglia Uno è andato FK Ed è stato Turi Che è riuscito a seguire sempre gli ordini Sempre a stare con gli alleati E sempre a combattere A fianco dei suoi alleati Senza far lasciare le penne Sempre supportato tutti Turi è stato uno dei migliori combattenti Il secondo migliore Nulla da dire è stato Simon E E porr Murks Nulla da dire Il secondo e il terzo Sono anche loro quelli che sono stati più Subordinati Hanno sempre ascoltato gli ordini Hanno sempre eseguito gli ordini Sono sempre rimasti a fianco Uniti per combattere E non hanno mai lasciato la postazione Invece gli altri A malincuore ragazzi Vi siete spesso isolati da soli Vi siete sempre messi In occasioni di quasi morte Anzi qualcuno sarebbe morto Ma va bene 2, 3, 4 volte Poi ci sono anche altri Che effettivamente ragazzi Quando si dà un ordine Si deve ascoltare gli ordini Quando si chiama una ritirata Dovete ritirarvi E quando si combatte Non si va a suicidio Avete messo a rischio Le altre truppe spesso In questo caso non Diltouch Che comunque Mediamente Ho combattuto al mio fianco anche Si Mediamente si è comportato bene L'unico Secondo me Anche la mercele più che altro Si si è giusto Però l'unica Cosa che a bot Anche tu ti sei un po' isolato Ma il resto È andato tutto bene Invece Alcuni Siete proprio Spariti Non avete dato supporto alla squadra E addirittura Vi siete trovati in situazioni Che abbiamo dovuto salvarvi Quindi ragazzi La prossima volta Si usa Si ascolta più gli ordini Si ascolta chi ha il grado più alto E soprattutto si ascolta chi Ha una tattica in mente più facile Per far vincere Ok? Perfetto La prendo come un sì Le tre persone nominate Riceveranno un premio Uno Tutti e due E l'altro FK Ah ok Ma niente Domani Ma io ho dato Anche un po' premio a Dintouch Per la roba Che lui ha provato Sotto di lui Ah sì Effettivamente Dintouch Venite tu a premere il premio A posti di datori Valora Lo rosso Si valora Cosa? Eh Una dura battaglia Eh no Questa volta Si premia soltanto Chi ha combattuto In modo giusto Da oggi Si devono eseguire gli ordini Perché oggi Abbiamo rischiato la pelle Per alcune persone Che sono state subordinate In subordinate Scusami Allora Ecco qua I premio a uno Premio al secondo Premio a terzo I migliori guerrieri Hanno meritato Questi soldi Grazie Grazie Ad oggi c'è scudi Anche Cosa importante Non possiamo mica perder Ah ce l'hai tui scudi Perché vado la cassa Non so se è questo Non è Perché c'è la monnezza In uno zaino Fammi consegnare Le ampolle A nostri Alla strega Che le torna indietro Che cazzo a me Tutta monnezza qua dentro Che cazzo sto scemo C'è pure una moneta Chi la vuole la moneta Se la prende C'è una moneta Gratis Non sto scherzando Eh dai troppo Si togli dalle palle Mi dai lo zaino Mi dai lo zaino Mi dai lo zaino Bene ragazzi Non capisco il cazzo Mi ha rampito il zaino Di monnezza Gesù Cristo Ok Devo fare ordini nuovi Per il comune Nuove pozze Devo fare shopping cibo Zinco Zinco acciaio Zinco acciaio Zinco ti conviene a Martina Jăsă Ah sta facendo le strade nuove Ma ancora non abbiamo manco parlato Ma ha fatto il negozio? Wow che bello il negozio del Negozio del minatore Bello Hai messo già i simple shop Ancora non è finito Ah che figo Ah ok Stella tieni qua C'è un regalo per te Magari posso togliere le carte Ti serve il dolly Il trasporto merce Si fa creare d'alfabro Il dolly si chiama Chiedi l'alfabro Te lo fa Aspetta Oh Anche Oh Castella A Sì Non A Sì C'è Il A Anche Sì C'è Il Il Ma no sono finite le frecce Gesù Cristo Gesù Cristo Mi servono tante frecce Frecce e pozioni Allora Oggi nella battaglia La calenza di frecce è stata assolutamente Spesantissima Eh si Adesso infatti voglio rifornire di più Perché abbiamo messo solo 4 stack Adesso passiamo a 7 Solo che Chi vende le frecce non ne ha Io da solo avrei dovuto usare almeno 5 stack Sì ce l'avevo Eh vabbè ma non possiamo Comprare così tante frecce Dipende se il cacciatore ne ha Signor Simon ma ti ho dichiarato questa cosa comunque L'ingrandimento L'ingrandimento Sì Al comune Cioè hai fatto modificare il documento Eh io ho detto al comune che andava Ampliavo il negozio Eh ma l'hai fatto firmare nel documento Gli hai dato i metri Io l'ho detto al teso chiere Lui ha scritto sul foglio Hai visto se l'ha scritto? Ma che cazzo Eh ma l'ho scritto Ehm ma l'ho scritto Eh ma l'ho scritto Però non lo so nemmeno Samba Va bene va bene tranquillo se non ce l'hai Eh ma l'ho scritto Ehm ma l'ho scritto Ehm ma l'ho scritto Ehm ma l'ho scritto Mi dica Ehm avrei livelli per fare Per incantarmi la spada Qualche altro utensile Devo aspettare già un pizza Eh sì ti conviene aspettare Felipe Che ti fa tutto lui C'ha tutta la libreria pronta Ehm al massimo Eh Un altro non ce ne sono No è il venico enchanter Ah ok Vabbè che fa tanto che fa che aspetti tanto Cambio No Eh per capire se ce n'era qualcun altro E non conoscevo No 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 Vabbè Mi dica Eh vai dal fai Vabbro Come non ce l'hai Hai stato lì a Ah com'è Oh Simon non vendi dolly Com'è possibile Eh nessuno vende le slime Sì che le vende Giorno non hai slime Mmm no Però c'è il dolly Non l'avevo comprato Te lo posso dare Te lo presto io in casa Ah e glielo presti un momento Poi te lo restituisce Sì Aspettatelo da lui Signorina Lei con questo vestito Mi fa fare queste cose Sono venuto a comprare le pozioni Già messe in negozio Intanto Ah viene Ok Vieni Giorno Vieni Tanto ci mette poco Già il negozio di pozioni pronto Posso comprare Oppure Ancora no Ah ok Perfetto E' l'unica Che mi serve Non c'è Come io l'ultima volta Volevo comprare Due pozioni Non sapevo Qual era una E qual era l'altra Come non sai In che senso Tipo Questa blu Aspettatelo Non c'è scritto Che questa qua Che tipo di pozioni Io come faccio A sapere Basta chiedere la strega Nel senso Serve sempre a lei Infatti volevo fare Un buco Come se la Quella di giubbacca Con scritto Tutte le pozioni Possibili E' più facile O un modo Comunque O ci puoi mettere Un cartello sopra Eh non c'è Ecco Dove lo metto Il cartello Lei dice Togli il tappetino E metti i cartelli Comunque le pozioni Non ci sono Quelle da cura Eh che vuoi farle Le vuole fare tutte in guerra Adesso io le faccio Ah ce l'hai? Venga Io le posso fare altre Ma allora il momento Quanto costano all'uno Non mi ricordo Quanto? Allora 15 30 45 55 Aspetto Sono 30 60 90 64 64 60 Ti devo 4 monete Tra i dati A te verti Per tanto Siete affidiati Ti devo dare altre monete Allora le porta Ho comprato Ho comprato Ho comprato le pozioni Aspetta 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 Dove ci vuol Stare Diciamo No Sostendita Ho detto Se volessi pagarmi Sto Prendo direttamente le vetrute Per fattere E' ormai E' ormai Giò dato i soldi Allora ok Vabbè quando hai tempo Tanto me ne servono altre Quindi comunque Devo prenderti I soldi Da darti Eccetera Con che gioco Cosa Quale stipendio Eh ma devi venire tu Guarda a te salire a chiedere Non so dov'è Non mi ricordo Anche tu lo devi chiedere Mi stava dicendo Mi stava dicendo qualcosa No Eh non mi ricordo Da cosa stiamo parlando Ok Non saprei Mi stava dicendo qualcosa No Ah io ho detto Aspetta un attimo Poi te lo dai Se aspetti stella Vertiver Vieni come ti doi Stipendi e soldi Ma è tua Già te l'ho dato Giusto? Quale? Il tuo non te l'ho dato? No Generalmente ho dato I 48 delle funzioni Ok allora vieni Infatti non so Dove non si do Andrata a panzer O gli soldi Non si trova I stipendi Sempre da noi Non lavori Come poliziotto Per panzer Allora, un attimo solo Andiamo a prendere le carte Ah, io ti ho dato i soldi delle pozioni Ti devo dare delle pozioni Sei monete Tieni qua, le sei monete e delle pozioni E siamo a posto Ora ti devo dare Quaranta Quaranta Tieni I stipendi e siete a posto Appena sono pronte le pozioni Mi fai sapere? Degli che mi servono Aspetta che ti dico quanto mi servono Otto pozioni Ma che cazzo Sei andato Degli che che babbaro apre? oggi il murx lo voleva vedere, voleva provarlo e non so c'è Samir c'è se vai chiede vado a chiedere la Samir se ora lo chiamo Panzer riparami in questa non posso rimanere più dammelo sei inutile Panzer fammi altri copri, due stack ma non aspetta cosa vende cosa vende non ho Pietra non ho Pietra perchè vuoi bastardo di pizza non ho Pietra non ho Pietra vabbè tengo io che ti serve? no Pietra no Pietra che vuoi dire Pietra? ah quella normale ah viene un altro uomo non ho Pietra 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 invece le devo dare il dud in patch eh paga eh si ma mica posso andare da dud si eh cazzo te fa questo po' vai a prendere tu il dito la massima un po' cazzo te fa cazzo ha 130 Cosa fare con questi soldi ha prenotato piatto che vado a cucinare Salve buon giro ragazzi sono arrivato E c'è un grande problema aspetta faccio una magia aspetta di essere grande mago Allora Zamir deve preparare giù un piatto tu cosa vuol dire Allora aspetta ti spiego allora abbiamo E' una specificità della casa Un solito kebab Un uovo Pollo e un hamburger E le patatelle Io voglio Una birchina Un classico Un classico buono polla Ok due kebab Dammi i soldi Sono dieci Allora io pago cinque L'ho portato io L'ho portato io Profittate Mi è arrivato un gatto Mi è dato zette Ora Quanto cazzo i soldi tu sei scemo Vieni Vieni Dogli sto cazzo di voce mia Metti i cuffi e stronzano Allora Piatto preparato per mio amico Adesso 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 pensare Aspetta 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 Zamir piano 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 Pianta ricco Pianta ricco Aspetta Allora Quindi due piadine abbiamo detto Giusto? Sì sì Passa un attimo Sì Allora piadine ragazzi Faccio subito Subito Io A essere bravo a fare piadina Ho imparato il mio mestiere Quando ero giovane Il mestiere del piadiniero Non è facile Zamir sempre Carico Tieni una te Una te Ti sei mangiato tutto Te Simon Eh Simon è il gigione Mangia sempre Non lo so Mamma mia Mangia sempre Allora io Intanto che vi gustate il mio piatto Io ho subito venire Devo comprare uova Adesso ho visto che compro uova Io non le rubo più Ma intanto mangiamo Buon apprendimento Uova buone uova E uova fresche Che bello queste uova Mi piace violenza Se viaggia violenza Mi fa messaggiare Saporita 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 Saporitissima La te la sei aspirato Bellino Devo Eh minchia Si E' stra buono Sto cazzo di kebab Saporita Eh ma mechia Baudesco Cazzo la simila Vai zitto Scusate ragazzi Lavoro sempre Lavorare sempre Lavorare sempre A un certo punto Diventa faticoso Ma poco cazzo Ora Compromesso Porco cazzo Porco Porco cazzo Porco Stiamo ordinando Qualcos'altro Porco cazzo Aspetta un attimo Cazzo Porco cazzo Cazzo Adesso c'è anche il bollo Ma poco cazzo Pollo Cazzo Pollo Ho portato i soldi Cosa bollo Cosa Non ho capito Vorremmo ordinare Ecco lei Cosa Cosa cazzo Non ho capito Vogliamo ordinare Anche il bollo Dove l'è Do bollo Ah bollo Ok Fammi un momento E io Ok E chi cazzo ridere Chi cazzo ridere Quante scuse Che stavo vedendo Due bollo Ecco qui Ecco qui Pollo Botte e fotte Vai Vai Botte e fotte Ma non mi stai facendo Oh merda E lui ha detto Botte e fotte Io ho dato Botte e fotte La troia Ma staccata la testa Qua Tira il mio pugno Che vuole Aspetta Faccio io Se volete Botte e fotte Fanno sempre male E ingredienti Iniziano a scherzeggiare Qui i contadini Non fare un cazzo Contadini Veramente Sto ordine Ma che stai No qua Finiscono il cibo Contadini Bastardi Infatti Inutile S2 contadini Dai dai Andiamo Ah si Ragazzi È stato un piacere Forza Arrivederci Forza Milan Cosa? Forza Milan Cosa è il Milan? Come cosa è? Non seguire il cibo Gaggio nel nostro paese Però è bello Ah tu ho distrutto il mio paese Vero? Lo dimenticavo Tenga Tenga Il suo piatto è ordinato Brego Brego La senti Questa voce Vero male Che è infegato Cosa? Cosa succede? Cosa? Fammi vedere il mio negozio Così chiudo i negozi E mi metto un attimo a fare I conti dei materiali Ah, devo farla di nuovo Scoccio di andare avanti e indietro Dopo la cancella La senti questa voce Sì Ok, hai fatto la cacca, vero? Gesù Cristo Santo Dove cacca, vero, è stata di merda Ok, hai fatto la cacca, vero, è stata di merda Ho posato i miei soldi Signore, 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 signore Te l'ho preso in un altro colore È proprio questa Dai, che mancano solo le pozioni Questa guerra ci è costato un casino Salve Ben Com'è stata la guerra secondo te? Molto stressante Ehm, pensa che le prossime Come le abbiamo organizzate Sappilo che quello che hai visto È un quarto di quello che ci beccheremo Cosa? Cosa? Aglia Aglia, aglia La senti questa voce? Sì, sai che siamo pochi comunque Allora, guardami Ti guardo Ah, buonasera È stato io, è bellissimo È un po' rosa Non trovo È bello così, mi piace il rosa Ti avevo detto che io ci becca Avevo avuto una bella idea Guarda 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 Vuole fare una sfilata Perché è sfilata Sono qui per comprare le pozioni di cura Eh, le sta facendo Ho preso l'anambicco Così le potevo fare più velocemente Guarda Anche il cacciatore me le ha ordinate Sì, ma mettili proprio in vendita Così me le compro Proprio prepara il negozio direttamente Come è stata questa? Bravo, bravo Dove è tuo cugino? Boh, è andato a... Non so Mi sapeva che mi sistema l'armatura Ma già inizia la tua avventura ad amminatore? O ancora no? Eh, ancora no, ancora no Ma lo sai, è vero che c'è Alex Mob? Eh, scusami un attimo Sai cos'è Alex Mob? La mod? Sì, sì Eh, mi sentivo scusa Buona fortuna Oh, grazie, grazie Ho già giocato So più o meno come... Sì, sì, vabbè Dico per i mostri che ci sono Eccola lì E' andato bravissimo Bravissimo Mi devi aggiustare l'armatura Viene Ma tu la devi riparare tu Ma che hai aggiustato? Che ti fai qua? Eh? Sì, c'è la tua esperienza Ah, è vero Ok, come l'aggiustano? Allora subito vado a prendere i soldi Allora Carlo, mi raccomando di lingotto Che ti sei rubato Sì Sì Tutti e trevi Beh, hai il solo tre lingotto Dai, mamma mia Dai, mi qua, doggio Ok, no, 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 tieni, doggio No, no, mette il pezzo di armatura E poi poi mette il lingotto Ah, ok, aspetta Ma c'ho quattro pezzi Eh Oh, c'ha mille Ma non è giusto un cazzo bro Mi sai vedere più Tanto ti paga, dai, su Mi fa molto bene Ok, allora Ah, frana Ma questo il zaino E' il loro Per quello che Quanto è il gozzo Mentre quando è il pò Mentre è il doggio E' il mondo E' il giallo Mentre è il giallo Mentre attenta Quindi E' il giallo Che stia Non è giallo Guarda cosa ho comprato E' da me E' comprata da me Eh si Adesso l'ho comprato Ah è vero Non ho più esperienza Vabbè tieni Ti ho consumato 3, 2 No ho lasciato 4, 5 lingotti Quanto ti devo? Sono 30 Ma la c'è Lo fai tu mi capito Ma vedi che c'è il nuovo minatore Compra da minatore nuovo Che già ha i negozi e tutto E ora sta mettendo Ho visto che ho messo Vabbè intanto sa Ah è vero Ricordato che se rai Rai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho visto, te l'ho serbato. Signor Vertiver. Signor Vertiver. Signor Vertiver. Signorino. Questo qua, vedi? Non ti conviene cuocerlo tu. Capito. Perché questo lo compra direttamente il fabbro grezzo. Il fabbro lo cucina tutto. Quindi non c'è bisogno che lo fai tu. Perché è meglio per i tuoi guadagni, secondo me. Così puoi vendere anche il carbone. E c'è da ragione. Vabbè. Veda lei poi. Ok. Ok. stai ubriagando è bello è bello molto bello ma ancora non ha finito vieni vieni che devo andare un attimo a consegnare delle target che c'è? che c'è? ah aspetta aspetta torno io troppo aspetta devo andare a prendermi i soldi cosa? ho procurato tre stacchi di stacchi ah ok aspetta un attimo vieni con me dammi tutte e tre stacchi tieni lo 60 è sempre un buono farla fare ma una cosa sto riscontrando dei problemi a trovare animali che mi danno pelle tipo orsi o coccodrilli allora ti spiego lei c'ha un libro si chiama Alex Mob ok sul libro Alex Mob c'è scritto tutto sugli animali dove si trovano dove puoi trovarli e come si trovano gli orsi per esempio dovresti andare proprio nelle foreste grosse devi leggere dal libro precisamente dove si trovano perché da lì trovi allora non è che c'è qualche tipo periodo dell'anno essendo che sta arrivando l'inverno no 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 non ha collegamento con la nuova mod che metteremo a parte non c'è ancora quella mod vieni vieni che stavo dicendo comunque niente questo era il discorso nel senso che tu basta si basta che leggi il libro ok ho commissionato io delle passioni di cura alla strega lei l'ha già fatta si già l'ha fatta vedi sono già all'invendita le avevo messo già ah mi ho chiuso il negozio il problema è che io gli ho chiesto una ventina ma sicuramente te l'ha fatta voglio vedere io ho preso 15 ah ok perfetto allora io devo consegnare questi dobbiamo fare la stessa strada quindi andiamo poi comunque niente per gli animali purtroppo devi leggerti il libro bene dove si trovano per esempio gli orsi sono un po' più rari rispetto agli altri animali e mi sembra che dovrei esplorare se ne ho un pochino più si ma non ce l'hai una nave per te ti potresti comprare una nave una cog e vai ma posso anche se sono cacciatore si che te la puoi la cog la possono comprare tutti quanti solo la cog quanto costa? devi chiedere a simon mi pare che c'è proprio il negozio sai dove è tuo negozio il cacciatore? a destra all'ultimo negozio che ancora non è costruito ah si avevo visto tipo una spiazzata con delle basse pensa che sia quella la cog sennò chiedi a simon precisamente che è qua dentro ah vabbè va qui dopo io la chiedo per esempio perché non sapevo se potevo prenderla si che puoi semplicemente se la sosti al porto di là devi chiedere permesso devi pagare la tassa a barone se invece la metti al comune paghi la tassa alla statua ecco qui signorina uno due tre quattro dietro di te dove vai? ah me ne apprende le soldi domicolpi eh se vuoi soldi subito vieni di in touch poi parliamo un attimo di questa cosa ok la casa è un po' vuota ragazzi mi spiace ma è è per motivi di aspettare sto aspettando il costruttore quanti colpi ho detto? ok vai lancia non sono quattro stacchi mancano tre colpi eh frate è con me scusami eh frate no non è colpa mia se mai crafto di crafta c***o dai non compro più dai eh sì hai crafto da solo qua iniziamo già a imbrogliare vieni di in touch andiamo a come eh di in touch valoroso valor ti chiamo dai qua si faccia prima va bene con un omignolo ti chiamo vieni alle pensioni moglie per passare di nuovo venite venite no prima di tutto dove è dove cazzo ti ho buttato c'è un problema ah eccolo qui aspetta prima di iniziare questa città e quali misure devo modificare l'oggetto quale misura l'attività di stella l'attività di stella ma semplicemente ha due stella due edifici in uno quindi si semplicemente e invece le misure non lo so devi chiedere a lui perché non so manco se l'ha scritto il tipo il gabbroke qua dentro allora dintouch tu vuoi passare di due cose giusto vuoi diventare borghese vieni qua allora ti servono ti servono 350 monete 350 giustamente 350 dico quanti stack sono così non sbagliamo 5 stack sono 5 stack sono 320 1 2 e 3 4 e 5 320 ne manca la 30 si come cazzo hai fatto a fare tutti questi soldi bella domanda allora lei è ufficialmente adesso un borghese grazie quindi lei ha il diritto da città da borghese ha il diritto di avere non può votare ma il 3 licenze avere più attività in vari villaggi e addirittura costruire fabbriche chi fa parte di questo ceto ha la possibilità di avere attività non solo nel villaggio di nascita ma anche su altri villaggi in più ha il diritto di acquistare fabbriche che possono produrre dei prodotti bene perfetto siamo a posto allora perfetto grazie mille non si preoccupi qualsiasi cosa si può sempre venire qui dal me certo ho finito i soldi anche per le truffe come? grazie a tutti auguro allora devi offrire devi offrire ah mamma hai detto che non hai più soldi ma per ora non acquisti immagino lavori licenze immaginavo beh ognuno ha le sue cose effettivamente dovrei avere da qualche parte un secondo 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 ah ecco dimmi tutti ok ci sentiamo bene di dare un secondo grazie per tutto hai finito il negozio? è perfetto così ciao ciao buonanotte luke allora raga comunque oggi lo so siamo stati 14 ma molti sanno che ci sono gli esami eccetera ma avevano visto un sacco che non c'erano in questo periodo ma comunque vi dico venerdì che la scuola è diventata più leggera ci sarà tutti quasi e poi ritorno dovrebbero ritornare quelli che si comprano il gioco fortunatamente oh come no eh vabbè dai ci sta beh ragazzi dai alla fine com'è andata la guerra abbiamo quasi rischiato di morirci porca puta mangi sta patata cosa? beh in guerra la forza dei poliziotti e marinai sono queste cose è vero l'oro è sempre bene anche se fa schifo grazie grazie tra l'altro ho fatto tutta la guerra senza line ah bene capigliatura da fanciullo giovane ormai le cose in ferro non si usano più ma senta signor signor il tesoriero c'è o non c'è? attualmente eh sei disconnesso perchè cosa ti serve? però c'è si che c'è c'è nel senso ora no però c'è ok questa è la mia domanda perchè l'ultima volta che tu hai visto c'è il tesoriero no no è il gabbroi quello là quello là che fa anche l'ammiraglio ah sì io ho capito chi è abbiamo risparato la mia insieme ok come l'avete risparato? vabbè no niente va bene passiamo all'arresto vai adesso te ne andiamo e dove si vede ragazzi questo è però da arrestare Gilberto che manda i suoi uomini in miniera immaginate un marinaio sta lì bello tranquillo vieni in miniera con la frusta in mano è un ultimo tirano in miniera devo andare anche ai petti però comunque in miniera allora io dai ma infatti ah non lo mando e poi mi faccio dare la roba comunque abbiamo un nuovo minatore ragazzi abbiamo quattro minatori e vi dico che gli altri due minatori non venderanno più ora li riesci a mettere perché l'altro minatore è cugino degli arabi quindi si sono fatti tutto una questione commerciale cosa? riesci a mettermi come ruolo il macellaio vuoi diventare macellaio? ho già macellaio ma assistente macellaio ah ma tu dici ne sento ma non hai la licenza tu cioè quello è un lavoro solo per te non ti serve la licenza orca puttana ti è passato ti è entrata in casa ho sentito licenza licenza e poi fai il macellaio e non ha una licenza no non faccio un macellaio questo comunque raga avete visto con il cibo di Samir con il riso fritto di Samir Yotto non perdeva vita cioè Simon non perdeva per niente vita io sono arrivato a mezzo cuore si anche io sempre questo io non ho non c'è non c'è una freccia assurda non si può continuare così comunque eh stiamo comprando ho già comprato tre stack sto aspettando vuoi vedere il mio vestitino io andrei un attimo da Stella a fare la sfilata come no? è compro ho già investito ah ecco ah cercavo proprio mi dica mi puoi fare un piacere mi puoi sbagare questo per favore non ho poteri magici però semplicemente te li troppo mi dia 12 perché sono bagati per lei ne do 13 è addirittura grazie allora sto facendo il lavoro per lei e per il cacciatore ma io ho già comprato vabbè in caso serve altri non tanto io penso che lei troverà un sacco di soldi è finanzio capri per ormai gli asci il mio stipendio ogni volta che passo e vabbè è giusta causa lei comunque vende le pozioni guardi guarda guarda cosa mi ha trovato il cacciatore che mi ha dato il lavoro gli ho dato il lavoro questo ah le trovate sì me l'ha trovato il cacciatore l'altro oltre su ma non ho avuto niente io a chi le lancia la presa la presa la presa gazella horns decoration tieni la trovate giù come come gazella corna la trovate giù guarda guardate è brava possiamo fare uomini e donne qui no com'era la canzone uomini e donne non penso che sia quella quando mai lasciare la mette io ho capito come si chiama uomini e donne il segale dit dalEN น un 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 add Belen Sono finita nel cringe Avessimo Bene l'aspettatori ora che cominciamo perché lascia le chiavi in giro le appozzi ma tu sei pazzo se qualcuno viene salve bravissimo bravissimo che ne ti piace lo giusto nel culo non lo sapevo questo però mi fa piacere vabbè è giusto è giusto vedi rispetto a te ma ne è più sincero oh ma dai vieni a vedere finalmente un minatore che vende da minatore ma non è di merda però rispetto a com'è il quartiere non c'è pizza niente ma che cazzo sta dicendo a me piace a me piace più questo questa cosa aspetta aspetta non è brutto e gli materiali usati a me piace perché sa da minatore ho capito ma devi rispettare il quartiere oppure no ma che cazzo significa che se nella casa giapponese che la tena casa rosa che la tena un municipio a chi stato della casa dei viching che c'è secco come cazzo ragioni global ma che sei ubriaco vabbè ma siete roma che vuoi sapere come va il tuo aiutante macellaio quanti cazzo i soldi gli dai produccio ma quanto io sono credo gli paghi in tot quanto produce allora ieri gli ho dato uno stack oggi ha fatto tipo 14 15 stack di roba gli ho dato 140 ma entri con le spese di fatti io entro 7 vabbè se lo dice non mi sbaglio ah effettivamente non saresti borghese ma il del minatore si si già c'ha la roba da vendere il ferro l'ha comprato subito Dania e Dania se l'ha comprato tutto se l'ha comprato subito è mai un affare cotto pensi già cotto e ho detto pure di non cuocerlo che è un compito di fabbola c'è mi è venuto come una pezza ma non male vabbè non è vero in effetti richiama quello che è il minatore posso non dire eh appunto stai facendo la mentale che non la so no il rozzo è il minore tu sei il rozzo no la sporcizia stai vedendo su sti matti ma fanno i fasci leo vedi qua andiamo a comprare la speranza no ma qua qua ancora fammi si scolpi oh 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 Grazie a tutti. Oh ma lo sai chi è che sta in là? Ma che cazzo sta a fa quello qui sopra? Benna ascoltami un attimo Ok Benna ascoltami un attimo Vai via più lontano possibile Corri, corri Corri fidati Corri Fidati, corri Ma perché devo correre? La sta lo zaino nelle chiare Ok la prossima notte che provi Non è trattato a uccidermi Perché non è vero Eh dai 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 io Bravo E adesso che ti sei messo incredibile Non lo sai per morire Carlo sta commettendo contro il vendicatore Sì stavo un po' giocando Dojo comunque siamo a corte di frecce Uno le vende Stiamo a corte di frecce Eh scogno oggi non c'era Appena ce le rimette in vendita C'è caillutante macellai Ma questo lo puoi togliere panzer se le trovi Sinta puoi trovare la popa mistica Ma aspetta No 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 Come si chiama il cupo praticamente Come si chiama il cupo Sono mosche ma ti sarò? ooo ma ti puoi scegliere? ooo 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 ma ti ha preso in bocca ma carlo tu sta mangiando no no ma ti prende in bocca ma non è uscito ma l'ha preso in bocca però me l'ha messo guarda ma ti prende in bocca proprio direttamente ti do un regalo a te ma se per questo se lo fa accanto all'acqua mi pare ti porta nell'acqua incomincia a rateare tu si voglio provare si vieni a morire nell'acqua lo devi fare perchè lui ti prende ti tira ma hai delle frecce ma tu sei poca troppo poca vita cioè devi mettere l'armatura se non sei sciotto no 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 ma dai 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 le prende reggio guarda no l'ha preso l'ha preso ma guarda st'apparendo è un mostro il coccatine dovrei fare il discorso dipende c'è guarda guardate guardate il buffo ma si no no come signor doge io sto partendo in una esplorazione molto lontana ti conviene tra poco a chiudere ma io questo invece guarda che è questo è carlo guardate oh quelle piccane ho l'ha shottata il più potente che c'è però si e voi dai noi non l'uomo è più a mezzo ma no ma no ma non lo prendi ma non lo prendi non ho capito che che cosa c'è va 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 oh è tutto cazzo basta stai senti pure amare ma ci mettiamo di mettervi le mani addosso ma che è sta roba oh oh cazzo ma che cazzo faceva quello col gelo ma questo è quello che ha attaccato questo è stato carri ho carlo e ho carlo ho carlo mi Oh Carlo l'ha voluta Tieni Tieni Eh ma ringrazio Lo scudo le chiami Crystal Ballet Che cazzo ne so io Carlo Sicuro che non vuoi un altro così Ma quello è un È un boss Quello lì però Eh sì è un boss piccolo Ah Carlo Ce l'ha dato la roba tua giù Ma una spada ti manca giù La spada ti manca Ce l'ha quello Panza Cosa Metti un Crimson Mosquito Ma dici questo Quello del cosola Come si chiama Del netto Come che è stato bellissimo Qualcosa minchia era incazzato nero Qualcuno ha una chiave Ma che è sto coso Una chiave Della Della Ah no L'ho mai Porco Dio Faccio la fermata Sì Però a me serve la chiave Se no la cassa Non va Posso aprire più Grazie Grazie Io vado E non c'è un pazzo Che pazzo Che pazzo Ha detto il Mi è oraco Ma schifo Mi può dare una targhetta Targhetta? Sì Quella del negozio Ah Ok Vieni Di chi è sto zaino? Ok Ne racconto anch'io Stanno Stanno Negozio Si viene E manca a me Una chiave C'è scritto C'è scritto casa Di chi è casa Le chiavi Ma schemi C'è la chiave Di Gio Scusate Io no Io ho fatto Io no Non vorrei Perchè ne ce l'ha Ieri E C'è Ristorante Carlo le chiavi Ce l'ha lui Probabilmente Carlo Chiavi No Erano prese loro Raga Trovate le chiavi E Carlo E Vedi Non c'è C'è La mia chiave Mi sto cercando E tu c'hai la mia Bene ma da Carravenza Ce l'hai tu Sei l'unico Che deve No No Io ti ho ridato tutto Poi Lui si la tengo La prossima La pelle Io ti ho ridato Il tuo panzer Con il mio Avevo della Pele Avevo cura La pelle Di coccodrillo Non c'è Nelmeno dove è andata Scoppiato un po' Tutto Ho trovato No Non c'è Non c'è niente Ora L'ho cercato Non le trovo Le chiave Vale Fai Slash Invasi Carlo Slash E per vedere Mi metterla di cazzo Se c'è le chiavi Di posto Carlo Dagli le chiavi Dai Mi dà Mi dà la targetta Vai Mi chiedete Sei bene Mi chiedete Mi chiedete Vieni Una giusta? Sì, ho sei Come sei? Ho sei monete dietro E che devo fare con sei monete? Questa è grande E' compreso nel prezzo Solo che non lo posso mettere in vendita Se no lo mettevo qua Ma io manca la chiave di giù E la chiave di panza La mia è stata trovata Ce l'hai? Sì, ma comunque c'è un problema Il coso delle barche è vuoto Io non posso partire Come vado? Non c'è nemmeno una barche Ah, ma tanto comunque adesso stacchiamo Quindi non penso che non sia partire A priori però nel senso Venerdì c'è il Wolverine Ah, il Wolverine? Ok La nave Ma sta là la nave Non ci sono, è vuoto a detenere No, è vuoto proprio Non so chi se l'ha comprato tutto per fare cosa No, frate, ti giuro Non è che sto scherzando C'ho questa che è la mia fallegna Volevo usata Io ho soldi e fabbro E sono i miei chiari Io non ce l'ho la chiave Quindi la di giù l'hai trovata? Trovata Posso vedere l'inventario di tutti Vede chi era in un'azienda E vai, slash Cioè, devi fare così E controlliamo tutti l'inventario E vediamo chi l'ha Sì E messi Carlo Messia Inbossi No, non funziona Ah, è tutto attaccato Non funziona Come non funziona? Oh no Quella di Panzer Stiamo cercando chi ce l'ha Ma ce l'ho data Non ce l'ho data Eh, ce l'ho data a Panzer Quella è di Panzer Ah, è chi sei scemo? Eh, oh Ah, l'ha trovata Ok Prima di saccare però Il mio animale domestico nuovo Bello Oh no, è morto Va bene Ma ti metto molto più forte Ti faccio cercare No, non ti permetterebbe più Di bagnare che a me Aglio, che significa drop beer? Sì, drop È un orso del nether Che va sotto sopra Ah No, non lo spionare Tasmanian, David È il demone della Tasmanian Che? È il demone della Tasmanian Questo cosa sarebbe il demone della Tasmanian? Sì Buonanotte Non ti dobbiamo fare una live No Cioè, devo venire Dopo, devo venire Hanno fatto video E tutte, eccetera Non ce l'ho No, non ce l'ho Non ce l'ho Che cos'è questo? E' la musca E' la tarantola E' la tarantola Ma che ne è? E' la tarantola E' la tarantola E' la tarantola E' la tarantola Ma che botte E' la tarantola Eh si ma che cazzo ne so che attaccava di improvviso E' la tarantola Ma avevo letto un nome, sembrava un nome tranquillo Uno non va a pensare che è un mostro cattivo Oh chi sei? E' Panzer Oh ma cazzo è tu Ho trovato quante cose Ma è impossibile con queste cose in giro comunque Ma cazzo è un po' Se ne è impossibile Si ha rubato il scudo di Carlo? Non è Carlo Ma non è Ma non è Ma non è Ma che fatti copia? Oh vai di nuovo Oh vai di nuovo Aiuto 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 Corri corri Aiuto ma è mortale E' come se ha circo E' morta Eh io sono un po' aggressivi sti mostri Ma non hai capito Tu se lo colpivi ti copiava l'arma Perciò ti ha ucciso Ti ha copiato l'arma tua E' capito che ha fatto Basta Basta No basta No basta Allora cazzo dai chiudiamo il server ma non riesci più a maiare 5 minuti 5 minuti e chiudiamo Cosa? L'armatura si scassa subito Non è che si scassa subito E' che tu l'hai colpito con la tua arma Ti ha copiato l'arma e ti ha colpito con la tua arma Capito? Ah si può convincere Eh ho qui quel mostro Allora ti diamanti alla mezza Si ma quel mostro è qui Cioè capito ti copia quello che fai Cioè se tu hai l'arma fortissima ti copia l'arma forte E' come cazzo si fa questo? Non ho capito Eh mi sa che uno si deve far seguire un'altra spana Che cos'è? è stata una sessione intensa infortunatamente fino a 29 siamo tranquilli è una truffa questa cosa cosa è una truffa il solito ganere che prende la roba a prezzo da rubare infatti è il meglio cosa vabbè comunque dai ci siamo divertiti oggi proprio adesso sarebbe molto stressante troppi mostri ma non è una truffa è ottimo il prezzo del carbone 64 monete per 64 regali è buono non so che ti ferò 64 il carbone è una merda il carbone è una serra eh ma lo vedi a 32 e 30 eh digglielo digli che secondo te costa troppo però ti ho creato che non lo trovo mai a questa cosa si ma... capito ma dove sono gli altri? che cosa vuol l'icona? che cosa vuol l'icona? saluta 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 ragazzi che ruocchiello che ha fatto con il ruttone comunque il carbone è un po' altino eh digli la tua fidanzata il carbone ce l'ha un po' troppo alto il carbone ce l'ha un po' troppo alto il tuo fidanzato vende il carbone a un prezzo troppo alto non lo compra mai nessuno devi metterlo 25-30 quant'è l'avendo il carbone? 64 ma io ce l'ho due stack di carbone non so che posso registrare eh mica servono a me per caso hai preso tanta moneta questa cosa ho urlato un po' la stavo testando se potevo colpirti d'oglio ho fatto il fornimento al frigo venga no vabbè chi è la pozione maestro tartaruga? è fortissimo quella pozione chi vuole questa pozione? diventi io io è di gioco no è di gioco no è mia se la pu... ah se la puo tenere? come la posso tenere? è fortissima in quella se la porta diventa invincibile protezione 4 ah non c'è non provoci aspettare 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 non c'è io sono i dodgi faccio le cazzo, ne? grazie Devo fare il napoletano o devo fare? No Ma scusa ma Giova ha detto che me la potevo tenere Non fai se sto scherzando Era solo per percorrere Basta Certo con tutti i biomi di merda che potevamo avere Abbiamo preso quello dei granchi che è inutile No scusami ma come cazzo hai fatto a scegliere dalla porta Se qua avevo preso le La pietra Mi sono tippato Ma anche è assurdo che noi abbiamo avuto i chunk Dei granchi C'è la cosa più inutile abbiamo avuto qua i chunk Le orche e i cazzo di capodoglio Che ci uccidono E qualche pesce Ok però Cioè poteva tipo che ne sono Non dico che spawn figo Ma almeno qualcosa di più Allora dal lato positivo Ok non ci sono quelle di animali pericolosi Esatto però Però Sai è bruttino vedere il granchio piccolino Ti fa danno e non lo vedi Oh questi fiori ma Ben ma Io ho saputo fare la mia prima sfilata Ma sfilata ascoltami un attimo Mi devi fare colorante rosso E colorante marrone Aspetti dico Aspetti dico Quali coloranti mi servono Devi metterli in vendita Che servono i coloranti Sai come si vengono i coloranti Sai che con le ossa Puoi fare a terra e spawn i fiori Così non devi andarla a cercare Quasi guarda E no no E perchè sta qui la persona con la con la minita ha fatto Quindi com'è Questo è l'osso Ok Che cazzo Che Che cazzo ha fatto niente L'osso Se fai Nel tuo Porco Se metti nel tuo inventario Ti fa la polvere Ok La polvere Se fai a terra Tasto destro Fa questo E ti fa Troppo i fiori Vedi Beh Posso farla Questa attività Come qual è Del pittore Il pittore vende i coloranti Eh dove Come dove Prendi i fiori e mettili Ho portato l'armatura Che Infatti mi ho pregato l'armatura su bacque E' scappato qua nel vestito Ah la stavo buttando Perché Prendi il solito La tua attività Da pittore Ma lì è il museo Capito con me Che cazzo c'entra Fai l'angolo Degli coloranti Ah vabbè dai Eh mi servono Ti dico i colori Aspetta Aspetta Ma che cazzo Allora A me servono Rosso Marrone Rosso e marrone Capito Capito Il marrone Per fare il marrone Serve il cacao Quindi devi dire A contadina di fare il cacao Con le fave di cacao Il rosso Va bene Mi va bene anche già il rosso Però Questo è il rosso Questo è il fiore Lo devi trasformare Vedi che quanti ce n'hai in giro Eh basta che fai To Per esempio To To Tutti i fiori Oh fai così Tutto Tutto Fatto E rimetti Capito E ti prendi Il mio Ok Fammi vedere un po' Ammelo tranquillo Ok Aspetta Fammi l'osso Chi lo vende l'osso I cacciatori Non costano un cazzo E poi Poi vai nel tuo inventario E devi Trasformarlo in polvere l'osso Ok Poi togli tutto Quello che c'è intorno E fallo Una volta No set E vedi Ti ha dato 4 fiori Capito Vedi Più è spazio sull'aria Più non c'è niente Più fiori di drop Ti Eh non ci volevo un cazzo a farlo Li trasformi in colorante E li vedi A me serve Tantissimi coloranti Ma non sono l'unico Tutti li cercavano Per questo ho detto Falli subito i negozi E li faccio io Dai Mi servono Eh Come li vedo Fra voi Facciamo una cosa Perché non so C'è il secondo Motodai Cosa Eh Eh Come li metto Poi che dici Tieni Prendi quelli Io non so Quando ritorna A giocare normale Cosa Però questo Che schifo di colore Eh Mi serve per forza Quello Mi serve Il rosso E il marrone Prendo sicuro Boh Comunque Sta di fatto Secondo Strucce Il ferro È bellezza Cioè Metti un danno punto E fare senza Tocca Che sticca Metti Facciare Se può Quattro Stavo dicendo L'attività Dove la metto Cioè Il Dove la dinta La metto Eh Ma lì Il museo Vivo Ma che cazzo C'entro Fai un angolo Per i coloranti Ok Un danno museo Non ci stanno I gadget Aspettate Ma Fai mettere Un po' E ho fatto fare Due piani Il primo piano Fai in area Per esempio Gadget Tipo qua Angolo E fai tutto All'area Negozio Negozio Colorante Tanto serve Solo un angolo Li fai qua Tu Ti prendi L'angolino Te lo fai sistemato Oppure Li posso Vedere dove sta La mia Attività Di lì No No Perché Questa è Il pittore Perché c'è una corta qui Penso Penso per non andare avanti e indietro Oh Ha nascosto Vedi che è troppo osso Ok Qui fra Sono un po' Indecito Che Cosa mette Quadri Che dicono E' bella Fare l'esposizione Dei quadri Che ne so Ma comunque Fammi chiudere Se vado a comune Chiudo Che cazzo è successo? 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 Mi ha fatto usare il totem della non morte e mi ha fatto usare Ho buttato un totem della non morte e il colpo di caldo Perché c'hai un totem in mano? Per non morire forse? E muore che fa? No Voglio buttare Ho fatto i denti 37 livelli Tieni Perché Che cazzo si sta mandando la strada E la strada Ai Ho sbagliato chiaro Quanti pezzi ti servono? Ma di cosa? Ma di cosa? La scocola La scocola Oh Sei salto Sei salto Sei salto Sei salto Ma tu? Dai Allora Ti metto mostro che ti piace tanto No 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 Andalo là all'estero Mandalo all'estero All'estero Guarda Non lo sta Non lo fa Sta Non lo fa Non lo fa Non lo fa Basta Mettiamo il mostro Ecco il mostro Ecco il mostro Ecco il mostro Ma ci dà Ti sono Mangiate Mangiate No, quel cazzo Ma è banana Ma che schifo è banana Sono molto curioso Che tu sicuramente mi stai rispondendo a questa domanda Che cos'è questo mostro Che sembra interessante Sugar Glider Ah, cosa? No, poto spawn Che cos'è? Io penso che sia meglio Allontanarci E' un dufo Ma poi voglio Il momento di chiudere il server Ma metto un centipede Il Peter Allontanarci Allontanarci Fammi fare il backup Prima che mi dimentico Capito Amici Allora ragazzi Buonanotte a chi va a dormire Io subito ritorno Due minuti E' un altro Un altro O Grazie.